Buongiorno, con un immenso piacere di vedervi tutti qui. Noi abbiamo cercato insieme con Viola, Calabro e Serena Ceto di generare questo evento qui al Change. Ovviamente ringraziamo tutte le persone che sono adesso online a seguirci sul canale YouTube. Ringraziamo ovviamente Federico II per questa iniziativa che secondo me e secondo noi tutti è molto importante per il bicentenario della nascita di Mendel. Oggi abbiamo deciso di impostare la giornata con un saluto da parte del Presidente Forestieri, il Presidente del Change, e un secondo saluto da parte della professoressa Franca Esposio, direttore del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche. Ho chiesto uno sforzo a tutti gli oratori di stare stretti con 10 minuti. Ovviamente stiamo raccontando 200 anni di esperienza, diciamo 150, nel campo della genetica. Ovviamente è stato uno sforzo che ho anche apprezzato guardando il numero di positive prodotte e quindi cercheremo anche di essere logici al punto che se si può sforare, sforiamo, non vi preoccupate. Alla fine di questo evento, se vedete appunto la locandina, avremo una tavola rotonda guidata da decani e da emeriti della genetica napoletana che vedete in locandina. Li elenco con il nome di Marilena Furia, Luciano Gaudio, Luigi Lania, la professoressa Lamantia e anche Lino Polito che in questo momento ci sta ascoltando da Zoom. Sono anche molto contento che lui è riuscito ad esserci oggi. Purtroppo un colpo della strega l'ha tenuto a letto. L'ultima notizia è che tra gli oratori Andrea Riccio purtroppo oggi non sarà con noi, però ci ha mandato il suo intervento che potremo far vedere durante la lista delle presentazioni. Con questo vi saluto e grazie ancora per essere qui presenti e do la parola al Presidente del Centro. Grazie Massimo, benvenuti a tutti con l'augurio di un profico lavoro. Ringrazio ovviamente gli organizzatori che hanno pensato di poter svolgere al Change una delle giornate dedicate all'abbicentenario della nascita di Mendel. D'altra parte, essendo una delle principali occupazioni del Change, lo studio delle malattie ereditarie congenite, prenatale e postnatale acquisite, ed essendo a Mendel il padre della genetica, direi che praticamente è un nostro nome tutelare e quindi questa è una sua sede abituale. Saluto tutti quanti i relatori e le ringrazio della loro presenza. Un particolare saluto a Luciano Gaudio che è di casa, essendo praticamente un membro storico del Comunicato Tecnico Scientifico del Change. Io ascolterò tutto quanto le relazioni perché mi interessa moltissimo l'evoluzione del pensiero di Mendel, che è stato uno dei primi autori e attuatori di un metodo scientifico, anche estremamente rigoroso. D'altra parte lui era anche un matematico, oltre che un botanico. Sicuramente la sua preoccupazione non fu adeguatamente apprezzata all'epoca, però la famosa frase «il mio tempo arriverà» possiamo dire che è sicuramente arrivata, perché credo che in tutte quante le fasce d'età, in tutte quante le fasce sociali, gli unici forse due scienziati che si ricordano e che sono alla portata di tutti sono Mendel e Darwin. Poi gli altri, diciamo in questo modo, fanno parte di settori particolari. Ovviamente i relatori del settore sono ai massimi livelli di competenze, quindi per me sarà un piacere ascoltarvi. Ancora benvenuti e buon lavoro. Allora, il mio turno. Volevo ringraziare Massimo Zollo per darmi l'opportunità di aprire questi lavori della tavola rotonda. Io vi porto naturalmente i saluti di tutti i colleghi del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, che ho l'onore, l'orgoglio, l'onere di dirigere da un po' di tempo ormai. E naturalmente credo che dal titolo alle varie tappe che ho visto per questa organizzazione, credo che sia stata un'iniziativa, un po' come dicevamo con Barbara, necessaria. E un po' degna di rilievo perché in realtà è rivolta ad una platea eterogenea. E chiaramente i ricercatori, e manca dirlo, sono gli abitanti maggiori dell'Aula e del Dipartimento di Medicina Molecolare, che mi piacerebbe ricordare per chi non è proprio del campo e dell'ambiente, che è un Dipartimento di eccellenza, basato proprio sulla valutazione della qualità della ricerca. Quindi, insomma, non ci potrebbe essere posto più adatto del CEIGE e del Dipartimento per parlare di scienza. Una competizione pesante, tra l'altro. Nel 2018 è successo questo processo e questa competizione da 800 Atenei italiani. 180 hanno vinto questa competizione. Noi, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, siamo uno dei cinque dell'Ateneo Federico II. Quindi potete immaginare quanto siano sentite queste iniziative. L'altra cosa che mi piace molto, un po', è di moda adesso, è il fatto che non ricordo in quale giorno è stato diretto proprio agli studenti, cioè un'attività divulgativa fatta per, o domani, per studenti delle scuole, per studenti dell'inizio dei corsi di laurea, eccetera. E questa ricollegazione è che, ovviamente, questa trasmissione ai portatori di interesse che si è sempre fatta in Atenei, ho visto che è proprio una nostra mission, adesso va di moda moltissimo ed è giusto che sia così, perché, terza missione, è una delle attività valutabili, quindi per cui gli Atenei prendono anche dei premi. Quindi, a maggior ragione, questa è una cosa da sponsorizzare, tra l'altro da conservare in Dipartimento, eccetera. Gli studenti, secondo me, in particolare, sono quelli molto interessati perché sentire un escursus di un viaggio da persone esperte del campo ha, secondo me, un taste, un flavor differente, perché non è più libresco. E quindi uno si rende veramente conto delle tappe importanti che si sono raggiunte. Io devo dire che ieri ripensavo un po' al titolo, no? Da Mendel alla genomica classica. Pensavo quanto è bello il nostro lavoro, perché è un lavoro fluido, è un lavoro interconnesso, insomma interdisciplinare, certo. Perché è vero che se non ci fosse stato Mendel, manca a dirlo, è la genetica classica, in cui il gene veniva dedotto dall'incrucio della progenie, mutato, ma vabbè, non parlo di Mendel, naturalmente. E quindi questa è stata la base. Però è vero anche che questo ha dato le basi negli anni metacredo, anni 70, per il genoma, che poi è stato formalmente presentato, penso che ce lo ricordiamo tutti, da Collins, presidente del progetto Genoma Umano, e da Craig Benter, quello di Celera, Big Company, che ha finanziato il progetto, a Clinton. E questo in pratica, secondo me, voi ne sapete più di me sicuramente, di genetica, però forse è stato un anello di congiunzione tra la genetica e la genomica. Dopodiché lo stesso Collins, leggevo ieri, ha detto che alla fine dell'inizio di questo secolo, chiamato poi secolo del gene, come giusto che sia, dopo tante tappe, diciamo, ripercorse e affrontate, un po' di nodi sono venuti al pettine. E forse sono stati proprio quelli che hanno determinato la nascita della post-genomica, ecco Mendel e post-genomica, che sono stati un po' di stimolo alla comprensione e forse anche alla rivisitazione di tanti dogmi che partivano da Mendel. Perciò dicevo la bidirezionalità. È vero da Mendel alla post-genomica, però è vero anche che forse, se tutte queste tappe, e questo è il nostro mestiere, non fossero state compite e affrontate in un certo modo, probabilmente adesso non si potrebbero riinterpretare, rivalutare una serie di cose scoperte dai dogmi della genetica classica. Quindi questo è il bello, secondo me, del nostro mestiere. Naturalmente, manca dirlo poi, profiqui interventi della citologia moderna, della biochimica, della biochimica molecolare. Ora, io ovviamente mi devo fermare e devo dire che, questo lo dico spesso quando faccio i saluti, che giornate come questa, in cui c'è la possibilità di nuovi sbocchi, nuova innovazione, nuovi approcci terapeutici per le malattie che, tra l'altro, si studiano proprio nel nostro dipartimento e change, restituiscono un po' di entusiasmo, cioè restituiscono al nostro cuore, a quelle come il mio e come quello di tutti voi, a cuore proprio la ricerca, il futuro della ricerca, un po' di speranza. E quindi sono qui a concludere riportandovi innanzitutto gli auguri di una bella tavola rotonda che io seguirò e del confronto che verrà fuori da questa giornata. Grazie. Allora, adesso cominciamo con la prima presentazione da parte del professor Patrizio Dimitri, del dipartimento del Charles Darwin della Sapienza di Roma, che affronterà il punto da Mendel alla post genomica in drosofila. Ringrazio fino adesso Dimitri e Patrizio per essere stato qui con noi e quindi attendiamo da lui lo status della drosofila nel campo della genetica. Cosa ha dato e cosa sta facendo la drosofila? Buongiorno a tutti, i presenti e quelli collegati. Ringrazio anche io gli organizzatori e Massimo che oltre a essere un compagno di lavoro e anche un amico, nel senso buono della parola. Il compito di parlare di drosofila qui a Napoli, dove c'è una scuola che andranno a buzzare di traverso, passando per Ferruccio Ritossa, che io ricordo con grande stima e affetto, e con tutta la scuola, Dado Boncinelli, Franco Gazziani, Carla Malva, Lino Polito e molti altri. Vorrei ricordare anche lo stesso per Paolo Di Nocera, che non vedo da 20 anni, ma che lavorava sui trasposoni di drosofila all'inizio degli anni Ottanta, quindi anche un antesignano di quel tipo di approcci. Insomma, non è semplice, mi fa piacere, quindi sono anche molto contento che tu mi abbia invitato a fare questa breve, ma spero, diciamo, positiva introduzione su questo aspetto da Mendel alla postgenomica di drosofila. Chiaramente, parlando di Mendel, beh, non si può proprio evitare di citare qualcosa del suo lavoro, chiaramente sto dicendo, dirò cose abbastanza ovvie, quindi il fatto, come ricordava prima, anche la diretrice del dipartimento, l'approccio, anche il presidente del CENGEL, l'approccio innovativo di Mendel, che è un approccio sperimentale, come diciamo poco fa, è proprio alla base del metodo scientifico moderno, quindi il tempo breve di generazione fondamentale, il presunzativo, quindi la scelta dell'organismo, del sistema sperimentale, la numerosità della pregenia, la vasta varietà di fenotipi, diremmo oggi, di forme, colori, bianco, rosso, giallo, verde, ora non sono, diciamo, bandiere, ma erano ovviamente punti di riferimento, l'utilizzo delle linee pure, cioè background genomici genetici omogenei, che piante che si riproducevano per autofecondazione davano sempre luogo alle stesse caratteristiche, quindi questo era fondamentale, partire da un background genetico omogeneo, la possibilità di attuare una fecondazione crociata, quindi incroci tra piante che differivano determinati caratteri e anche l'autofecondazione. L'analisi non solo qualitativa, dire, ah, questo è rosso, questo è bianco, ma l'analisi quantitativa dei risultati, quindi l'aspetto matematico, l'aspetto statistico che è stato fondamentale per arrivare alle ipotesi, quindi la segregazione bilanciata durante la meiosi, l'assortimento indipendente, ipotesi che poi Mendele verifica grazie a ulteriori incroci, in particolare il famoso test cross, l'incrocio di prova, che gli permette di verificare l'ipotesi e che è fondamentale, questo in tutti i metodi scientifici. E qui arriva a dire appunto che le caratteristiche ereditarie di un organismo, in particolare l'ipotesi sensitivo, ma volendo generalizzarlo, non dipendono dai fluvi, dalla mescolanza di effluvi non meglio identificati, ma da, che cosa? Da entità fisiche che hanno la loro, diciamo, essenza reale, la loro concretezza, e vengono trasmesse attraverso le generazioni. Lui dice immutate, chiaramente noi sappiamo che non sono immutate, perché poi esistono anche le mutazioni, se bene rare. Ora, salto da Mendele all'adrosofila. Come il piso sensitivo è il primo organismo modello, secondo me, in ambito vegetale, l'adrosofila lo è in ambito animale. Qualcuno pensa, magari, che sia stato effettivamente Morgan introdurre nell'ambito biologico e genetico, ma in realtà ci sono altri prima di lui, Woodsworth, Castle, Lutz, che hanno anche pubblicato lavori su drosofila prima di Mendele, Mendele, scusate, prima di Morgan. Morgan nel 1905 inizia a lavorare. Questo organismo è interessante perché, come il piso sensitivo, ha delle caratteristiche di quello che noi riteniamo essere un organismo modello. Quindi il fatto che in questo caso sia un organismo karyotico dotato di sviluppo, dimensioni ridotte, quindi pochi millimetri, un peso di uno o due milligrammi, quindi si può manipolare, conservare il laboratorio, allevare in spazi abbastanza ristretti, ciclo vitale molto breve, 10 giorni a 25 gradi, la numerosità della progenia è anche molto elevata, le femmine sono molto fertili, possono deporre centinaia di uova, e anche il numero cromosomico è abbastanza contenuto, 8 cromosomi invece di centinaia, come ad esempio in alcune formiche. La citologia, quando ci sono 100 cromosomi e più, non è così semplice. E poi la presenza dei famosi cromosomi giganti, che sono stati la base della nascita della citogenetica classica e poi di quella moderna, quindi un organismo modello a tutti gli effetti. Ora, Morgan inizia intorno al 905, qui le date esatte non sono ovvie, ma più o meno questo è quello che si legge dalla Columbia University, a utilizzare drosofila, melanogaster, e la cosa interessante dal mio punto di vista è che proprio Morgan aveva delle perplessità, notiva dei dubbi sul fatto che il mendelismo potesse, diciamo che le leggi di Mendel riscoperte ovviamente prima del 1900, dopo quel periodo di buio, fossero valide anche negli animali. Questo è un primo punto. In più non era neanche tanto convinto della teoria cromosomica dell'eredità di Satton e Boveri. Ma, ironia della sorte, è stato proprio lui con il suo gruppo a confermare, a estendere, proprio sia il mendelismo, con le eccezioni, e poi anche la stessa teoria cromosomica dell'eredità. Quindi in questo piccolo laboratorio, la Fly Room, si dice anche fosse poco luminoso, anche non particolarmente gradevolissimo, perché vedete più caschi di banane e bottiglie, è abbastanza disordinato. Qui, in questo periodo che va dai primi del 1900 fino agli anni 40, effettivamente sono state fatte delle scoperte fondamentali per la genetica in generale. E la Fly Room è ricordata anche in un film che è stato prodotto negli Stati Uniti. Qui c'è una locandina di una proiezione fatta a Lisbona, in Portogallo. In Italia non mi sembra che se ne sia parlato. È possibile forse scaricarlo da qualche parte, ci sono i trailer. Ed è la storia del Fly Room e di Calvin Bridges, che è stato uno degli allievi più importanti di Morgan, visto attraverso gli occhi della figlia piccola, che aveva questo padre brillantissimo, ma anche un po' particolare. E la signora credo che sia ancora viva, è una persona abbastanza anziana, c'erano delle interviste su YouTube. Quindi si parla di splendore, decadenza e di nascimento, in quanto nei primi anni, dal 910 al 40, queste enormi scoperte che sono fondamentali, che vanno appunto da diverse mutazioni isolate, che identificano altrettanti geni, tra queste la mutazione White Mottel variegata, che è uno dei primi casi di silencing epigenetico, l'eredità legata al cromosome X, i geni stanno sui cromosomi, cromosomi, la mappatura dei geni mediante il crossing over, quindi le mappe genetiche, i geni non stanno messi così a caso, ma occupano delle posizioni fisse sui cromosomi, la nascita dell'acidogenetica con l'analisi dei cromosomi politenici, quindi il lavoro fondamentale di Calvin Bridges, e infine anche l'effetto mutagenico dei raggi X, come dire, che è quello che è stato messo in evidenza da Mahler. Periodo intermedio di decadenza, come qualcuno la definisce, dove sappiamo che i migliori genetisti, che cosa fanno? Lavorano sul fago e su coli, e quindi anche perché si pensa che studiando sistemi più semplici si possa in qualche maniera più facilmente ricostruire le basi molecolari che poi sono fondamentali per processi più complessi, cosa che però non si è rivelata corretta, in quanto poi sono arrivati Ed Lewis, Nustrain-Wohrart, Wischhaus, e lì hanno scoperto i geni dello sviluppo, con interventi anche di altri colleghi, tra cui anche di qui, di Nobuncinelli e Simeone, che hanno lavorato molto su questi geni omeotici. E infine il grande periodo di rinascimento, dove grazie a tutta una serie di innovazioni tecnologiche, di abitazione in sito, oggi ci sembra semplice, una cosa banale, ma allora, agli anni 60, fino agli anni 60, non era ovvio, è stata fondamentale. Poi tantissimi altri approcci, fino ad arrivare appunto all'isolamento degli elementi trasponibili, a usarli come armi biologiche dirette a colpire i geni per poi identificare mutazioni inserzionali, a riprescare questi geni, a isolarli molecolarmente in periodi in cui non c'erano altri approcci, e la trasgenesi, sempre grazie agli elementi trasponibili, insomma, tantissimi progressi, fino ad arrivare alle ultime cose di gene editing, che hanno permesso di fare passi da gigante in ambito di agenetica e lo sviluppo dell'epigenetica. Nel 2000 c'è il sequenziamento del genoma, già era noto che il genoma di Milano-Gassel fosse 180 megabasi, 120 di eucromatina, dove sono racchiusi i geni principali, coinvolti nell'espressione dei fenotipi, nel codificare proteine, e poi l'eterochromatina, 60 megabasi, che è stata sempre consigliata per molto tempo un po' una terra di nessuno, una discarica del genoma, ma così in realtà non è come vi farò vedere poi alla fine. Quindi qui, eterochromatina in verde, zone pericentromeriche, eterochromatina costitutiva, cromatina in bianco. La sequenza viene letta, del genoma viene letta, quindi siamo in un periodo post-genomico, i vari programmi leggono e definiscono cosa è un gene e cosa no, a volte ci prendono qualche altra volta, fanno qualche errore, ma insomma alla fine i numeri un po' cambiano, si arriva a definire circa 14.000 geni codificanti proteine e altri 3.000 codificanti RNA regolativi, microRNA, piccolo RNA, silencing RNA, long non-coding RNA e così via. E tutte queste informazioni sul genoma, sui geni, sui costrutti molecolari, sui fenotipi, tutto quello che volete è contenuto nel flybase, quindi chi è interessato, specialmente gli studenti, può andare a scartabellare, a curiosare in questo posto. Ora, poi, una cosa che era già nota, era pre-genomica, ma che è stata ulteriormente stesa, era il grande livello di similitudine tra geni umani e geni idrosofila. Questa era una stima fatta nel 2001, dove si andavano a osservare alcuni geni umani, a paragonarli, a cercare corrispondenti di idrosofila, e circa il 75% dei geni umani coinvolti in malattie genetiche, che vuol dire geni che, qualora mutati, causano malattie genetiche, aveva un corrispondente parente, quindi un omologo, in melanogaster. Probabilmente oggi la stima è un po' più ridotta, ma è sempre il livello molto alto di corrispondenze. Di conseguenza, questo è strabiliante, se voi lo dite all'uomo della strada, o a un vostro amico che non lavora in genetica, cioè come è possibile che un moscerino, che è anche sinonimo di una cosa abbastanza poco consistente, abbia questo enorme livello di similitudine. Eppure c'è 800 milioni di anni di divergenza, a partire da un antenato comune, mantenimento di livello enorme di corrispondenza genetica, e anche di meccanismi regolativi. E tra l'altro qui appunto i lavori di Dado Boncinelli e Antonio Simeone, sui geni omeotici di idrosofila, che erano dei corrispondenti in un uomo, che erano coinvolti nel sviluppo del cervello. E anche Andrea Ballabio e altri, che si sono messi a studiare i geni di idrosofila, ortologhi di quelli umani che erano coinvolti in malattie genetiche. Quindi questo è stato un campo di grande lavoro, tuttora lo è. l'idrosofila è un fondamentale punto di riferimento per studiare i geni o malattie, le loro interazioni, le funzioni dei prodotti, le reti regolative. Anche un altro famoso scienziato, il genetista, che era, come si chiama, Walter Goering, scusate, anche lui notando il gene Eiles, notò che lo stesso gene Eiles era presente in idrosofila, specie umana e topo, e mise in evidenza la conservazione delle reti regolative, che quindi lo stesso Master Gene, in organismi diversi, dava luogo alla formazione di un occhio che è completamente diverso tra idrosofila, mammiferi, specie umane. Quindi cose molto interessanti. E qui ci sono tutta una serie di malattie che possono essere studiate, malattie genetiche, ovviamente dall'Alzheimer, al Parkinson, alla SLA, e hanno quindi problematiche neurologiche, problematiche cardiache, che vengono studiate utilizzando geni di idrosofila. In termini post-genomici, la genetica inversa la fa da padrone, ovvero sia il percorso inverso, come molti sanno, ma qui si parte dalla sequenza del gene identificato dal sequenziamento dei genomi, o dal suo RNA o anche la sequenza putativa della proteina, per poi che cosa fare? Beh, alterare la sequenza del gene stesso e i vari metodi che adesso vedremo per avere informazioni sulla funzione. Questo perché non è che una volta sequenziati i geni ci hanno nome e cognome, ci hanno scritto in fronte cosa fanno, qual è la loro funzione. Quindi uno deve andare a quel punto a investigarla. Sui giornali si parla, è stato degodificato il grande libro della vita, ma poi bisogna saperlo leggere e capire le funzioni. Quindi diversi approcci, non solo in drosofila, ma nei vari organismi, quindi in mutagenesi generalizzata, usando ad esempio sostanze chimiche, poi andando a recuperare le mutazioni del gene di interesse, altri sistemi come l'RNAI, interferenza dell'RNA, che permettono di abbassare il prodotto del gene dell'RNA, oppure più recentemente sistemi di degradazione specifica del prodotto proteico, esperimenti di over-espressione, di espressione in eccesso di un determinato gene, di cui si vuole eventualmente vedere l'effetto, sempre per avere informazioni sul fenotipo, e poi la mutagenesi di sito specifico, inizialmente in drosofila, fatta con gli elementi trasponibili, elementi P, che erano questi cannoncini diretti contro i geni, e poi più recentemente, a seconda dei periodi, a seconda degli approcci, gene targeting, gene editing, sistemi di ricombinazione sito specifica, fino ad arrivare al più noto e recente CRISPR-Cas. Ora io voglio solo concludere, la post-genomica di Melano-Cas, parlando di, come dire, un piatto della casa romana, cioè l'eterocromatina. Qui c'è la mappa dei cromosomi di drosofila, per quanto riguarda le regioni eterochromate, una mappa citologica, e devo riconoscere qui il lavoro grande, il lavoro dagli anni 70 e poi, di Sergio Pimpinelli e Maurizio Gatti, con i quali ho collaborato e lavorato, e successivamente, in collaborazione col Genome Project, abbiamo, come dire, fatto una mappa integrata, mappato i cloni genomici, all'interno dei quali c'erano le varie sequenze corrispondenti ai geni dell'eterocromatina, e localizzato, ottenendo una mappa integrata citologica e molecolare. Quindi circa 250 geni codificanti proteine sono localizzati in queste regioni di eterochromatina costitutiva, e la cosa interessante è che le dimensioni di questi geni sono circa 10 volte le dimensioni genomiche maggiori rispetto ai geni cromatici. Quindi, se si va a fare un conto, occupano circa la metà dell'intera eterochromatina costitutiva, che non è poco. E in più sono anche espressi, come si vede da questa heatmap, dove il verde è più espresso, il rosso è meno espresso, sono espressi durante varie fasi dello sviluppo e anche tra tessuti differenti. Quindi anche i livelli bassi di espressione comunque hanno un'espressione significativa. Quindi non c'è un territorio genomico desertico, ma esiste una quota di geni che sono attivi. Poi uno si può chiedere come si possano esprimere, ma quello è un altro problema. Quindi noi abbiamo voluto riassumere questo in un articolo che abbiamo pubblicato su Trends in Genetics, che anni fa un nuovo quadro, quindi una nuova visione dell'eterocromatina, mettendo questa foto un po' stile pop art, dove le heatmap sono incorniciate in questo cornicione bello pesante e questa pubblicazione insieme ai colleghi Massimo Marzano di Bari, Ennio Giordano, che tutti voi conoscete, di Napoli, e Giovanni Messina. E quindi ho voluto un po' io fare brevemente un elogio della drosofila, così come Luciano di Somosata ha fatto a suo tempo un elogio della mosca, forse sono stato un po' partigiano, un po', come dire, concentrato da alcuni aspetti, però ecco, vi ringrazio, e questo è il nostro laboratorio di Roma, dove lavoriamo in drosofila, ma ormai non soltanto in drosofila. Grazie. Bene, allora nella lista delle presentazioni andiamo avanti e poi sarà un argomento di domande in tavola rotonda che, ricordo ancora una volta, sarà un'azione svolta alla fine di questa lista di seminari. Adesso presenterà il dottore Elia Di Schiavi, anche lui viene da un laboratorio con grande esperienza, stavolta nel campo della Sea Elegance, e rappresenta ovviamente tutta l'attività svolta dalla CNR di Napoli, di via Pietro Castellino, in questo momento, e siamo contenti di sentire la sua presentazione che discuterà da Mendel ad oggi cosa si è fatto in Sea Elegance. Grazie Elia. Grazie, spero mi sentiate, grazie Massimo, grazie Viola e Serena per avermi dato questa possibilità, e cercherò oggi brevemente di raccontare un po' quello che potrebbe aver contribuito Sea Elegance nel tempo a quello di cui si sta parlando. Facciamo un mio step indietro rispetto a presentazioni di prima in termini evolutivi e in termini di complessità, chiaramente. fondamentalmente Sea Elegance nasce come sistema modello come sistema modello, attenzione, di recente, quindi parecchi anni dopo Mendel e anche parecchi anni dopo la drosofila, grazie a questo signore che si chiamava Sir Sidney Brenner, il quale aveva già dato, penso, un contributo importante prima di lavorare con Sea Elegance alla genetica con i suoi studi in fago, appunto, e quindi alcune scoperte, credo, fondamentali, l'RNA, i ribosomi, il codice genetico, le triplette, però, diciamo, essendo una persona abbastanza particolare, negli anni 60 scrive Max Perutz, altro premio Nobel, poi Brenner vincerà il premio Nobel nel 2002, altro premio Nobel scrive che secondo lui i problemi classici della biologia molecolare erano stati risolti e che il futuro stava appunto nell'affrontare problemi biologici molto più complessi che anche un po' quello che stava dicendo prima il professore Dimitri, e negli anni 60 quindi si mette alla ricerca di un nuovo sistema modello che avesse le caratteristiche, i vantaggi del fago, ma che chiaramente permettesse una serie di manipolazioni più particolari, di studiare tessuti e cellule chiaramente più complesse, e alla fine di una lunga ricerca ha deciso che sia Elegance, c'era un rabbi di Tisse Elegance, era il modello in cui voleva appunto provare a rispondere a queste problematiche più complesse, e nel 74 pubblica il primo paper vero in cui si usa sia Elegance come modello, modello di genetica, vedete il titolo appunto della genetica di C.Elegance, viene pubblicato su appunto Genetics, è un malloppo di circa 23 pagine come si usava a fare allora, in cui praticamente mette il punto e la pietra miliare dell'utilizzo di C.Elegance per la genetica, in un anno particolarmente brillante, siamo evidentemente nati nello stesso anno, sia io che C.Elegance, lui porta gli anni un po' meglio. Allora, da allora si ha un'esplosione, quindi vi rendete conto che sono pochi anni eppure si è arrivato a un numero di laboratori considerevoli nel mondo, ben tre premi Nobel sono stati vinti nel frattempo, quindi ha recuperato un po' il gap che aveva con altri sistemi. E ve lo presento perché penso che pochi di voi l'abbiate già visto, fondamentalmente è un verme, chiaramente, è un tubo, si riconosce, questa è una splendida fotografia alzema, ma in realtà si riconosce ben poco, se non una bocca e una vulva, dall'esterno, in questo video più o meno vedete come si muove su una piastra e il fatto che sia trasparente e i tessuti interni, vedete come sono particolarmente semplici e questo è uno schema per cui si capisce che nella testa c'è una faringe, c'è un intestino qui in verde chiaro, le gonadi in blu scuro e le uova nell'utero e poi un sistema nervoso, quindi è estremamente semplice, quando qualcuno l'ha chiamato un tubo che mangia e si riproduce. Detto ciò, chiaramente, essendo come tutti i sistemi di modello ha vantaggi e svantaggi, è stato ampiamente detto anche prima dal professor Dimitri, il DARP, sì, li vedete in verde, li vedete in rosso, alcuni sono, qua sono elencati solo alcuni dei sistemi, forse i più importanti, sistemi di modello animale, e evidentemente si è eleganza dei vantaggi nel suo essere semplice, avere numerosi embrioni, essere molto piccolo, chiaramente sono tutti aspetti che nella genetica ma anche in altri aspetti di sperimentazione possono essere importanti, è adulto in tre giorni, sicuramente importante il fatto che sia un'ermafrodite autosufficiente, chiaramente quindi per la genetica questo è stato un vantaggio enorme e anche il fatto che ogni verme sia capace di deporre, di avere 300 figli rende chiaramente l'analisi genetica molto più veloce e lo stesso Brenner ammette che quando Suston scoprì la possibilità di congelare gli animali gli screening genetici fecero un salto in avanti perché vi rendete conto che la possibilità di congelare l'animale che tra l'altro è un vantaggio che si elegans mantiene rispetto ad altri organismi rende tutto molto più semplice, si fa uno screening anche se c'è un milione di diversi mutanti, diversi fenotipi di congelite li puoi studiare uno alla volta tra l'altro non è anche bisogno di personale che li segua continuamente. Vi racconto solo alcuni quelli che secondo me sono aspetti caratterizzanti soprattutto nella giornata di oggi vi ho detto che è un'ermafrodite autosufficiente avrete già apprezzato che ci sono le uova all'interno di un verme gona di esperma ma chiaramente esistono anche i maschi sebbene molto poco rappresentati in natura quindi la possibilità di fare incroci il genoma è molto piccolo molto anche più piccolo di quello di drosofila sebbene ci siano circa un po' più di 20.000 geni che sono stati identificati nei 6 cromosomi esistono stock center un po' come anche in drosofila quindi la possibilità di avere accesso a migliaia e migliaia di mutanti o di transgenici per adesso è diventato un po' caro 20 dollari ognuno quando ho cominciato io era proprio completamente gratuito ma chiaramente i mutanti si possono ottenere così come è stato anche detto prima mediante diverse manipolazioni si possono fare ginomating RNA interferenza o per espressione nel video avete visto un'iniezione di DNA all'interno della gonade dell'animale si può fare emologo di combination mutagenesi random e così via quindi diciamo è facilmente manipolabile col vantaggio che più o meno in sei giorni sia già la seconda generazione e questo è proprio uno degli aspetti che un po' più ricorda uno dei temi della giornata cioè il fatto che se noi prendiamo un eterozigote una madre eterozigote una singola madre eterozigote che è il nostro AP0 e non facciamo niente in automatico avremo la progene essendo un'ermafrodita autosufficiente e la progene evidentemente seguirà le regole che ben conosciamo quindi avremo chiaramente un quarto degli animali che porterà alle mutazioni emozigosi col vantaggio che tutto ciò succede in tre giorni che non abbiamo dovuto fare nessun incrocio che tutti gli animali sono isogenici chiaramente perché vengono dalla stessa madre quindi sono esattamente clonali a parte la mutazione chiaramente che avrà segregato come atteso e tutto ciò in 300 vermi quindi chiaramente con dei numeri importanti anche ai fini statistici questo lo notò subito Sindeni Brenner che in uno degli editoriali che ha scritto in genetics nel 2009 racconta come non è facile descrivere quanto fosse trionfante nel sentire nel vedere il suo primo mutante che lui solo dopo averlo backcrossed con un ball type avete avuto chiaramente gli eterozigoti e poi vedere i figli degli eterozigoti quindi la generazione successiva che segregava nella classico rapporto 1 a 3 mendeliano e quindi come avere un organismo complesso un mutante in un organismo complesso e confermare Gregor Mendel in due settimane questa era la cosa più soddisfacente giusto per la cronaca il mutante di cui sta parlando è questo qui questo è un ball type questo è il primo mutante che lui ha identificato si chiama Dampi che tradurrei in corto e chiatto più o meno e appunto l'allele di cui sta parlando si chiama E1 perché gli alleli in si elegans li chiamiamo in base al laboratorio e quello è England e lo chiamò E1 e lui appunto poter mettere in pratica con questo mutante questa enorme soddisfazione e forse anche per questo quando lui ha dato la lecture al premio Nobel ha la intitolata Nature's Gift to Science intendendosi elegans però subito nei primi minuti del suo talk ci tiene a precisare che il titolo non vuol dire che questo è un regalo di Nature alla rivista Science diciamo spiegando anche che personaggio un po' non so se qualcuno di voi ha avuto modo di conoscerlo ma devo dire era veramente una persona molto particolare diciamo la lecture del Nobel è piena di battute era veramente una persona particolare ok e quindi perciò ho chiamato questa slide il paradiso dei genetisti passando alla parte di genomica il primo animale il primo metazoo il cui genoma è stato completamente sequenziato è stato nel 98 il genoma di C. elegans anche grazie al contributo indispensabile a questi due signori uno dei due ve lo segnalo è John Sulston che partecipò ha vinto un premio Nobel in C. elegans per un'altra cosa di cui parleremo dopo ha partecipato al sequenziamento del genoma di C. elegans e questo è stato un vero e proprio pilot study che poi è stato utilizzato per il sequenziamento del genoma umano tant'è vero che John Sulston è stato coinvolto nel progetto pubblico di sequenziamento e le tecniche sono state utilizzate in C. elegans sono state utilizzate poi per il genoma umano parte pubblica non da parte di Celera e questa è la copertina del paper del 98 chiaramente da allora poi tutta una serie di studi sono stati fatti in era post genomica quindi la possibilità di conoscere già la sequenza dei geni un altro penso pietra miliare è stata la possibilità in C. elegans e drosofila di pubblicare il primo lavoro nel 2010 su quella che viene chiamata la prima enciclopedia degli elementi DNA quindi tutto ciò che c'è oltre il DNA il RNA proteine e l'impacchettamento della loro informazione e di nuovo questo poi è stato utilizzato come serap per fare la stessa cosa nell'uomo con il progetto Encode qui un elenco di alcuni dei processi o dei meccanismi che sono stati scoperti in C. elegans vi ho segnalato quelli che non riguardano la genetica giusto per farvi capire come non ve li racconterò tutti chiaramente però per farvi capire come e qua siamo solo fino al 93 poi c'è un'altra slide come gran parte delle grosse scoperte secondo Warren Book che è appunto la bibbia di C. elegans siano proprio nel campo della genetica a cominciare dal primo mutazione che ha un effetto sul comportamento animale le prime mutazioni il primo clonaggio e il sequenziamento di un gene della miosina alcune di queste scoperte hanno portato appunto all'assentazione di un premio Nobel per esempio Sidney Brenner nel 2002 John Sulson ve l'ho detto per il suo lavoro sull'analisi del cell lineage di C. elegans che tra l'altro è invariante però non c'è tempo oggi per raccontarlo oppure a Bob Horvitz per la scoperta dei geni della poptosi che tra l'altro è un patto perfettamente conservato nei mammiferi altri premi Nobel che vi vorrei ricordare sono quelli a Martin Chalfi che però perché ha utilizzato la GFP per la prima volta in un organismo multicellulare nel 94 il premio Nobel è stato dato poi più di recente oppure Andy Fire e Craig Mello su questo non lo chiamerei scoperta dell'interferenza perché non è stata loro la scoperta però sicuramente hanno dato un contributo importante su capire i meccanismi molecolari e una serie di aspetti e vedete che anche qui gran parte e poi io scommetto sempre su Nobel la Emirna che sono stati anche scoperti in C. elegans di nuovo vedete come gran parte delle scoperte riguardano la genetica cosa succede dopo cosa ci possiamo aspettare cosa sta succedendo più di recente sicuramente l'impatto degli approcci omici di cui tutti sentite parlare che ormai sono diffusissimi quali system biology metabolomica trascrittomica interattomica tutti gli omici che vengono in mente ha la caratteristica di portare a produzione di una quantità enorme di dati una quantità enorme di informazioni ma anche di liste di geni liste di proteine che a un certo punto hanno bisogno di essere in qualche modo filtrate o priorizzate sicuramente C. elegans sta dando un contributo come anche altri animali modello per fare una specie di filtro funzionale cioè quando c'è una lista di 300 geni e ti chiedi ma quali di questi geni magari è più rilevante per questo aspetto in C. elegans essendo un modello semplice si può rapidamente fare un taglio un filtering l'altro aspetto e chiaramente l'utilizzo per la medicina e quindi un approccio traslazionale e di nuovo anche in C. elegans i geni sono ben conservati chiaramente meno rispetto all'atrosofila vi ricordo che evolutivamente sono molto più distanti si hanno percentuali variabili a seconda delle pubblicazioni sul numero di geni umani che possono essere conservati quanti possono essere quelli coinvolti in malattie umane viceversa quanti geni di C. elegans sono conservati in altri in altri organismi in particolare l'uomo questi sono alcuni esempi giusto per portarvi in alcuni di alcune malattie il genere responsabile e l'omologo e un aspetto credo importante è che gran parte del knockout di geni importanti per il sistema nervoso sono vitali in C. elegans e quindi sono più facili da studiare rispetto ad altri organismi anche la conservazione dei pathway è perfettamente conservata questo è un esempio il RAS tra l'altro C. elegans ha contribuito moltissimo a comprendere il pathway di RAS vedete che le proteine sono le stesse alcune addirittura hanno lo stesso nome perché sono state prima scoperte in C. elegans ed è vero anche a livello oltre che di amminoacidi chiaramente ma anche a livello di amminoacidi sono mutati nei pazienti questo è un esempio di un progetto che abbiamo in collaborazione con Roman Polishuk del T. gem c'è questa proteina ATP7MB che è importante che è responsabile della malattia di Wilson questo è l'allineamento della proteina con quella di C. elegans chiaramente in rosso sono tutti amminoacidi identici ma quello che voglio farvi notare è che gli amminoacidi che sono trovati mutati nei pazienti che sono questi in nero sono in gran parte rimasti sono identici anche in C. elegans quindi se ne può studiare la funzione nel verme esistono numerosissimi modelli di malattie già ampiamente utilizzati in C. elegans questo è del 2006 è abbastanza vecchiotto ma è un numero che va crescendo e devo dire che nella comunità si capisce come molti gruppi stanno cominciando a lavorare molto di più su malattie umane credo sia dovuto semplicemente a un fatto di finanziamenti però è sicuramente una delle strade che sta prendendo sia elegans tant'è vero che per il progetto per il network delle malattie non diagnosticate negli Stati Uniti per tutte quelle malattie di cui non si conosce il gene causativo dopo il sequenziamento di questi pazienti prima c'è una fase di bioinformatica e poi c'è una priorizzazione per capire le 100.000 varianti che si trovano in quel paziente quale possa essere veramente causativa della malattia si è pensato di farlo attraverso appunto sia elegans drosofia e zebra fischimodo e rapidamente di arrivare a dei candidati o addirittura al gene causativo della malattia io credo che io faccio anche parecchia traslazione in si elegans ma credo che uno dei vantaggi e uno degli aspetti ancora peculiari e forse più interessanti è quello degli screening genetici che si possono fare in si elegans diceva Franco il tempo di occhi gialli occhi rossi è finito bisogna pensare a cose un po' più peculiari e quindi per esempio screening di modificatori screening di soppressori ed è quello che stiamo più o meno facendo quindi una volta che hai un certo tipo di malattia che stai studiando fare un modello in si elegans e provare a rivertirne il fenotipo con un'analisi per esempio con uno screening di mutagenesi e il vantaggio è quello che si può fare in una piastra da 384 in volumi da 50 microlitri per cui chiaramente si può aumentare moltissimo il throughput dell'analisi e velocizzare molto lo screening genetico e attraverso questo arrivare a un possibile candidato un gene modificatore che va poi validato nel topo con il vantaggio che una volta trovato l'IT l'hai fatto in maniera completamente unbiased perché non ti sei chiesto non ti sei andato a studiare prima qual era poteva essere il fenotipo o il meccanismo molecolare ma una volta che hai trovato il modificatore poi puoi risalire al meccanismo e allo stesso modo con la possibilità di non dover andare attraverso ipotesi quindi molto più rapidamente un vantaggio e siamo quasi finito che a me non piace raccontare ma che è un fatto è la tendenza nella ricerca a ridurre la sperimentazione con animali superiori e questo per sé eleganza e anche immagino anche per drosofila molto meno per zebrafish è un vantaggio purtroppo che ci siamo trovati ad avere cioè qual è il problema che chiaramente ci sono serie problemi etici legislativi sia la comunità europea che ancora più la legge italiana cerca di ridurre il numero di animali superiori da utilizzare nella sperimentazione e si elegans e drosofila essendo invertebrati perfettamente fulfill le tre R quindi replacement reduction refinement e viene spesso preferito per scappare a queste problematiche o a eventi quali per esempio la chiusura di animal house o mouse facility come quello che sta succedendo recentemente saprete che il sangue era chiuso la mouse facility proprio per la pressione del pubblico sulla sperimentazione in mammiferi e questo è un vantaggio di cui ci stiamo godendo senza volere ho due messaggi che vorrei quindi lasciarvi una citazione di Bruce Albers che immagino conoscete molto bene se non altro per il mattone su cui abbiamo studiato che in un editoriale del dicembre 2010 in cui presentava Modencode racconta che ci troveremo in una posizione molto sorprendente per quanto sembra incredibile la ricerca futura in mosche e vermi spesso sarà il modo più veloce e anche il più efficiente per curare le malattie umane ma già qualcuno prima di lui Friedrich Nietzsche in Così parlo Zaratustra scriveva che questo non lo traduco ve lo leggo you made your way from the warm to man and much within you is still warm con questo vorrei ringraziarvi chiedo solo pochi secondi per ricordare due maestri che ci hanno lasciato due maestri per me che ci hanno lasciato Franco Graziani sono due due collaboratori due ricercatori dell'IGB Franco è stato citato prima dal professore è appunto un eccellente e raffinato genetista che devo dire mi ha dalle prime cazziate che mi ha fatto i data club mi ha formato parecchio e ci ha lasciato purtroppo un po' di anni fa mentre più di recente Umberto che era un eccellente neuroscienziato ci ha anche lasciato e anche lui è stato un eccellente maestro per me mi piacerebbe con questo ricordarli e ringraziarvi per l'attenzione grazie via specialmente per questa ultima slide due persone che hanno dato un impatto nella ricerca in genetica a Napoli e direi in tutta l'Italia e nel mondo bene adesso c'è la presentazione della professoressa Serena Ceto che ci racconterà la sua visione del passaggio da Mendel alla posta genomica in orchidee ovviamente l'argomento è così bello che immagino da gustare colore per colore grazie buongiorno a tutti voglio ringraziare innanzitutto Massimo non solo per avermi invitato oggi come speaker ma per aver accettato di organizzare questa giornata nell'ambito dei Mendel Days grazie davvero grazie al Change grazie al Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche allora da Mendel alla posta genomica orchidee le orchidee non sono organismi modello ma in questa slide che si vede un po' male diciamo vabbè comunque ho cercato di riassumere tre delle caratteristiche che le rendono interessanti allo studio in particolare quello che più interessa a me che mi spinge a studiarle è l'aspetto evolutivo e infatti le orchidee possiamo forse considerarle un modello evolutivo sono una delle famiglie di piante a fiore con il numero maggiore di specie oltre 27.000 oggi descritte e che hanno conquistato praticamente tutti gli habitat non le troviamo solo ai poli poi ci sono dappertutto dal livello del mare alla montagna quindi come potete immaginare hanno tutta una serie di adattamenti morfologici ecologici fisiologici veramente una gamma enorme e infatti io sono in buona compagnia Darwin ha dedicato un trattato alle orchidee studiandone la formazione di ibridi naturali e in particolare poi la coevoluzione con gli insetti impollinatori e quella che è mostrata qui nella nella slide è un'orchidea dedicata l'orchidea dedicata a Darwin volendo fare molto brevemente una storia della genetica delle orchidee devo dire che questa è soprattutto genetica di popolazioni genetica di popolazioni che parte con approcci che oggi sembrano preistorici quindi di singoli marcatori biparentali o uniparentali per studiare i flussi genici per individuare le linee materna e paterna di discendenza le orchidee fanno ibridi anche tra specie differenti lo fanno molto frequentemente questo è anche uno degli aspetti che porta a speciazione passando poi attraverso approcci più moderni analisi di SSR fino ad arrivare ad approcci che possono essere definiti tranquillamente di genomica di popolazioni ma oggi non vi voglio parlare di genetica delle popolazioni di orchidea vi voglio invece raccontare qualcosa della genetica dello sviluppo del fiore e per fare questo devo necessariamente citare Arabidopsis taliana che invece è la pianta modello della genetica e in particolare un anno importante per la genetica di Arabidopsis è stato il 1990 per due aspetti fondamentalmente il primo è che parte il progetto genoma Arabidopsis che poi si conclude più o meno un decennio dopo il secondo è che proprio nel 90 è stato pubblicato il primo modello dello sviluppo genetico del fiore in realtà in parallelo è stato pubblicato anche per Antirrinum Maius che è una pianta meno famosa di Arabidopsis ma i due modelli erano perfettamente sovrapponibili e bene ve l'ho riassunto in questa in questa slide il modello nel momento in cui viene pubblicato si chiama ABC adesso è un po' più complesso si è arricchito strada facendo si chiama ABCDE e prevede la interazione di una serie di geni omeotici che da soli o in combinazione tra loro determinano che cosa la formazione dell'organo corretto nel posto corretto che per il fiore di Arabidopsis vedete è schematizzato qui è organizzato in territori concentrici che si chiamano verticilli fiorali partendo dall'esterno verso l'interno nel primo verticillo si formano gli organi che si chiamano sepali che sono quella specie di foglioline che stanno intorno al fiore vero e proprio poi ci sono i petali poi gli stami e i carpelli che sono gli organi riproduttivi maschili e femminili una volta pubblicato questo modello la prima domanda dal punto di vista evolutivo che ci si è posti è ma quanto è conservato questo modello evolutivamente è cominciata quindi l'analisi in altre specie più vicine o meno vicine evolutivamente ad Arabidopsis e siamo arrivati a farlo anche in orchidea verso la fine degli anni 90 cosa è venuto fuori in orchidea che il modello nelle sue linee generali è conservato ma ha delle peculiarità che ben si sposano con le peculiarità del fiore di orchidea che adesso vi racconto allora guardate il modello qua sotto non so se riuscite a vederlo forse si vede meglio di là rispetto a quello di Arabidopsis ha una prima caratteristica differente che in Arabidopsis i domini di espressione di questi geni omeotici sono ben netti ben definiti non si sovrappongono tra loro invece in orchidea sono sfumati infatti si chiama fading border questo modello ma più importante ancora è una classe particolare tra questi geni che è la classe B di geni omeotici che si estende come dominio di espressione fino a coprire completamente anche il famoso primo verticillo quello più esterno e questo spiega la morfologia del fiore delle orchidee che nel primo e nel secondo verticillo non ha sepali e petali come in Arabidopsis ma ha due serie di organi che noi chiamiamo petaloidi cioè come se avesse due serie concentriche di petali e uno di questi petali è il famoso labello che poi è la vera novità evolutiva delle orchidee è quel petalo modificato che attira l'impollinatore che gli fa da piattaforma di atterraggio quindi è coevoluto ovviamente con con gli insetti impollinatori a questa verifica di modello siamo arrivati con un approccio single gene quindi identifica il gene omologo di Arabidopsis in orchidea caratterizzalo identifica il promotore verifica il profilo di espressione nei selvatici e vai alla ricerca di quei rari mutanti che riesci a trovare spontanei che riesci a trovare nelle orchidee per fare il confronto dei profili di espressione selvatico e mutante quindi vi dico questo perché una svolta l'abbiamo avuta appunto con le omiche quindi trascrittomica e genomica che devo dire sono state piuttosto recenti il primo genoma di orchidea lo vedete lì in alto a sinistra è quello di Falenopsis sequestris pubblicato nel 2015 e giusto qualche anno prima 2013 il primo assembly de novo di trascrittoma sempre di Falenopsis e l'anno dopo l'abbiamo fatto sempre de novo in un'orchidea mediterranea orchissitalica sia trascrittoma che mirnoma quindi per dirvi che è abbastanza recente ma apro giusto una brevissima parentesi perché giusto per per nominare Mendel il genoma di Pisum Sativum la specie incrociata da Mendel la specie modello per Mendel è stato pubblicato nel dicembre del 2019 quindi è stato veramente pubblicato l'altro ieri comunque ritornando alla storia recente della genomica delle orchidee se guardiamo questa slide successiva ci rendiamo conto che dal 2015 a oggi non sono tantissimi i genomi di orchidea sequenziati anzi sono pochi ma ce ne sono un paio interessanti quello di apostasia scienzenica e quello di vaniglia planifolia che sono particolarmente interessanti perché queste sono orchidee basali primitive dal punto di vista evolutivo quindi hanno delle caratteristiche morfologiche diverse da quelle più recenti evolutivamente una tra tutte apostasia scienzenica non ha il labello quindi ha un fiore a simmetria radiale voi direte ma perché ci dici questo perché facendo studi di genomica comparativa sono venute fuori una serie di cose interessanti non solo diciamo di carattere generale per esempio la datazione molecolare dell'origine dell'orchidee il common ancestor è datato più o meno un'ottantina di milioni di anni fa ma anche tutta una serie di geni chiamiamoli degli adattamenti morfologici tra i quali ci sono non solo quelli che interessano più strettamente a me cioè quelli coinvolti nella formazione nello sviluppo nel differenziamento ma anche dell'evoluzione del labello quel famoso petalo modificato ma anche altri tipi di adattamenti morfologici per esempio l'habitus epifitico piuttosto che terrestre oppure il tipo di organizzazione del polline eccetera e in questa slide tutti i geni di questa slide appartengono ad una famiglia di fattori trascrizionali che nelle piante ha avuto un successo pazzesco cioè sono stati praticamente cooptati per tutti i processi di sviluppo e differenziamento e che si sono fattori trascrizionali che si chiamano medsbox e tra questi ci sono i famosi geni che appartengono al modello abc dello sviluppo dello sviluppo fiorale e con approccio di trascrittomica e di genomica abbiamo capito delle cose in più su questi geni di classe b quelli che presentano il profilo di espressione che si estende al primo verticillo tant'è che abbiamo visto che in orchidea ce ne sono cinque di cui quattro sono duplicati a due a due e presentano dei profili di espressione opposti tra loro e a seconda di come si esprimono nel primo e nel secondo verticillo guideranno la formazione corretta dei tepali esterni di quelli interni e in particolare dell'abbello questo funzionamento coordinato dei geni di classe b si chiama il codice delle orchidee che poi è diventato codice del perianzio attraverso la formazione che dice che si formano questi eterotetrameri questi quartetti fiorali che sono una combinazione modulare di prodotti dei geni di classe b a seconda di quello che viene cooptato nel modello assieme ad altri geni di classe e a seconda del genere di classe b che viene cooptato in questo quartetto si svilupperà il labbello piuttosto che gli altri organi quello che stiamo facendo adesso è andare alla ricerca però di geni che non siano meds box e che eventualmente siano coinvolti nella formazione del labbello abbiamo identificato un candidato possibile che è uno IABI un fattore trascrizionale IABI omologo di CRC di Arabidopsis che si chiama poi in riso DL drooping leaf insomma nelle piante ognuno chiama i geni come gli pare è difficilissimo mantenere lo stesso nome all'ortologo in specie differenti comunque questi geni in generale quindi in Arabidopsis in riso in tutte le piante sono coinvolti nella formazione degli organi riproduttivi maschili e femminili e anche in orchidea fanno questa cosa ma in orchidea c'è un paralogo di questo gene che ha invece un profilo di espressione che è assolutamente sovrapponibile a due dei geni meds box di classe B e opposto agli altri due inoltre nel promotore di questo gene ci sono i siti di legame di questi fattori trascrizionali meds box di classe B e in più silenziando uno dei geni meds box di classe B che ha lo stesso profilo di espressione di DL si abbassa l'espressione di DL silenziando uno di quelli che hanno profilo di espressione opposto rispetto a quello di DL sale l'espressione di DL quindi quello che pensiamo è che ci sia un parlarsi di tipo regolativo tra questo gene che si chiama DL2 e i geni di classe B meds box e lo stiamo verificando andando a insomma verificare che effettivamente queste proteine leghino il promotore di DL in conclusione dove sta andando la genetica la genomica delle orchidee allora a passi lenti direi va verso un pangenoma perlomeno per Phalaenopsis sequestris che è la specie di orchidea che viene maggiormente studiata e a passi altrettanto lenti verso un'epigenetica e un'epigenomica devo dire che questo tipo di studi in orchidee sono ancora molto molto scarsi invece cominciano ad essere più importanti e robusti gli studi di associazione genome wide soprattutto con caratteristiche di interesse commerciale per esempio la dimensione del fiore per esempio il pattern di colorazione non solo dell'abbello ma insomma in generale del fiore quindi con quell'aspetto che vi proponevo all'inizio di risorsa economica c'è ci sono grandi investimenti in questo senso e poi genome editing genome editing che in orchidea va di pari passo con lo sviluppo di protocolli efficienti di trasformazione perché uno dei degli svantaggi diciamo uno dei difetti di questa meravigliosa famiglia di piante è che purtroppo sono piuttosto refrattarie alla trasformazione e quindi diciamo i protocolli oggi a disposizione non sono particolarmente efficaci non funzionano bene per tutte le specie e quindi si sta lavorando molto in questo senso io ho concluso ringrazio voi e ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno lavorato alle cose che stamattina ho cercato di raccontarvi brevemente grazie a tutti grazie Serena bene allora in questo momento avremo la presentazione del professore Andrea Riccio che oggi non è con noi però ci ha mandato uno suo video che parlerà appunto della post genomica da Mendel nelle malattie genetiche umane cercando di toccare quelli che sono gli aspetti più cruciali su cui si sta lavorando oggi ringrazio ovviamente Andrea per questo sforzo che ha fatto di darci la possibilità di avere un suo parere su questo argomento allora buongiorno grazie agli organizzatori del Mendel's Day in occasione del bicentenario della nascita di Mendel allora il mio compito è quello di parlarvi di tutto quello che c'è da Mendel alla post genomica delle malattie genetiche umane ovviamente impossibile in dieci minuti però sapete sicuramente che la genetica umana ha contribuito tantissimo sin dal dai primi anni del ventesimo secolo a confermare e ampliare le leggi di Mendel gli studi e le nozioni derivati dal da Gregor Mendel però quello di cui invece vorrei parlarvi oggi è più che altro delle eccezioni che la genetica umana ci ha insegnato perché anche dalle eccezioni è impossibile infatti imparare molto e comprendere la validità degli insegnamenti di Mendel una volta compresi i meccanismi molecolari e quindi veniamo ad un'eccezione che mi riguarda più direttamente perché è il mio campo di ricerca l'imprinting genomico e come sicuramente sapete una delle regole derivate dagli studi di Mendel è la cosiddetta equivalenza degli incroci reciproci cioè in pratica il fenotipo degli ibridi derivati dall'incrocio di linee pure che differiscono per uno o più caratteri non dipende dal sesso dei genitori che può essere scambiato allora questo dagli anni 90 del secolo scorso non 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 è vero diciamo è stato dimostrato non vero come potete vedere in questa diapositiva per i fenotipi che sono legati ai geni imprinted quindi quindi se noi incrociamo una femmina vedete di topo con un fenotipo nano con un maschio normale che otteniamo vedete degli ibridi che hanno un fenotipo normale fin qui nulla di strano ma se facciamo l'incrocio reciproco che vedete sulla destra quindi tra una femmina normale e un maschio nano vedete che il fenotipo dell'iprido è diverso ed è uguale all'altro al fenotipo dell'altro dell'altro allele parentale quindi ibridi nani come si spiega questo fenomeno è molto semplice i geni imprinted a differenza dei geni non imprinted non sono espressi su tutti e due gli alleli parentali ma sono trascritti soltanto da uno dei due alleli per alcuni di questi è espresso soltanto l'allele paterno come vedete qui al centro mentre l'altro è inattivo per altri geni invece è espresso solo l'allele materno e il paterno inattivo questo meccanismo è legato a modifiche epigenetiche che sono acquisite nei gameti i gameti maschili e i gameti femminili prima di tutto e prima fra tutte la metilazione delle citosine che vedete qui in basso a sinistra indicata da questo segnalino scuro che quando è presente nei promotori o in altre regioni regolative inattiva il gene che è presente in CIS quindi nel caso dei geni imprinted un allele è metilato e inattivo e l'altro allele non è metilato ed è trascritto allora che cosa succede nel librido di un gene dell'eterozigote quindi per una variante di un gene imprinted prendiamo ad esempio il knockout del gene IGF2 IGF2 è un fattore di crescita e il suo knockout ovviamente causa un fenotipo nano però nell'ibrido dipende da quale allele è inattivato infatti il gene IGF2 è un gene imprinted in cui normalmente l'allele materno è spento per imprinting genomico e solo l'allele paterno è trascritto allora se il knockout inattiva l'allele materno non c'è nessuna conseguenza sul fenotipo perché questo allele è già di per sé spento a causa della metilazione del DNA al contrario se il knockout inattiva l'allele paterno come vedete qui in basso in questo caso non ci sarà più IGF2 prodotto e quindi il fenotipo dell'eterozigote sarà nano l'altra cosa importante è che l'imprinting genomico è reversibile quando passa da generazione in generazione quindi per esempio se gli eterozigoti come avete visto prima che sono derivati da un accoppiamento di una femmina normale con un maschio nano sono tutti nani perché perché l'allele IGF2 materno che è l'unico diciamo normale è inattivato per via dell'imprinting genomico però se uno di questi maschi si accoppia con una femmina anche una femmina omozigote knockout vedete che può produrre una progenie ibrida con un fenotipo normale perché in questo caso perché l'allele IGF2 wild type passando attraverso la gametogenesi maschile viene riattivato e quindi permette la produzione di una quantità normale del fattore di crescita IGF2 questo dimostra chiaramente la natura epigenetica dell'inattivazione dei geni imprinted ora la metilazione del DNA non controlla soltanto l'imprinting genomico ma molti altri fenomeni e in realtà l'epigenoma più in generale è un meccanismo stabile di controllo dell'espressione genica e da molti è considerato un intermedio tra genoma e fenotipo e tra ambiente e fenotipo e oggi per venire al tema diciamo della riunione di oggi quindi la post genomica la post genomica dell'epigenetica consente per esempio attraverso dei microarray di analizzare i profili di metilazione dell'intero genoma e questo è utile per la diagnosi dei disorni dell'imprinting genomico ma anche di molte malattie mendeliane soprattutto di tumori e più recentemente è stato dimostrato che può essere utile per la diagnosi di malattie infettive e di disturbi della riproduzione quindi tutti i casi in cui c'è un'alterazione non della sequenza del DNA ma piuttosto della modifica metilazione delle citosine nel genoma vi ringrazio bene adesso ci sarà la mia presentazione ovviamente mi stavo autopresentando discuterò della post genomica nel campo del cancro e volevo dire un attimino ai relatori presenti per la tavola rotonda dopo di accomodarsi qui e quindi fare loro da volani per qualunque discussione di tutte le presentazioni che abbiamo avuto oggi bene allora diciamo che negli anni cosa è stato definito per come domande classiche facciamo ai corsi di genetica agli studenti è che cos'è un gene e quindi oggi nel 2022 io direi un tratto di DNA che si manifesta in un fenotipo e si eredita negli anni come ben capite questa definizione è stata totalmente rivoluzionata prevalentemente legata al dogma che voi conoscete DNA RNA proteina e qui ho voluto stressare gli anni in cui ci sono stati i primi esperimenti 1865 e degli esperimenti molto importanti per legare a questi fattori identificati da Mendel un effetto di regolazione di funzione e esperimenti fatti da Oscar Ertwig nel cui laboratorio ha lavorato Boveri il quale ha isolato e identificato i meccanismi legati alla questa ereditarietà di questi fattori in riccio di mare e di cui vi parlerò successivamente però per dirvi che il concetto del passaggio di ereditarietà viene dal simile ciò che è simile è ereditato nella progenie cosa che si era vista anche nel primo incrocio di Mendel quando c'era l'effetto del carattere dominante cosa che è simile anche nell'uomo per esempio in questo esempio di questo attore che conoscete tutti Michael Douglas ha questa fossetta che ha ereditato anche il figlio Kirk Douglas ma è più interessante vedere cosa c'è nel DNA che è ereditato e in questo esempio potete vedere essenzialmente che si eredita un allele dalla mamma un allele dal papà e poi c'è qualcosa di nuovo che i genetisti medici negli anni hanno sempre chiamato quelle che chiamiamo non soluzioni di problemi o anche mutazioni di nuovo e quindi diciamo che la storia delle informazioni che sono partite dalla genetica formale è passato attraverso un modello chiave che ha legato ai cromosomi una funzione e nel cancro questo modello l'ha sviluppato Theodor Boveri e gli esperimenti sono stati fatti con fecondazioni di gameti di riccio di mare ma poi anche fatti su questo nematode Ascaris megalofe cefala che è un presente nell'intestino di cavalli dove è dimostrato che essenzialmente che questa diffecondazione con due spermi nello stesso cello uovo generava delle alterazioni in cui i cromosomi segregavano in doppia copia scusatemi in doppia copia e in altre situazioni cellulari questa nuova evoluzione di embrione aveva invece perdita cromosomica e la perdita e la doppia copia poi l'ha legata a degli eventi che sono stati poi traslati in eventi di identificazione di fattori presenti in questi cromosomi con attività pro-tumorale pro-proliferativa e attività di blocco della proliferazione quindi in realtà con questi esperimenti per la prima volta si è parlato di oncogeni e oncosoppressori visti oggi con questo titolo ma in quel momento guardando duplicazioni di cromosomi omologhi o delezioni e o perdita di cromosomi il primo siamo esperimento statistico fatto negli anni 70 viene da questo lavoro interessante nel 1971 dove tutti conoscono l'ipotesi di Nutzon ipotesi conclamata confermata dove si è dimostrato che stavolta su 48 casi di retinoblastoma che è un tumore che colpisce l'occhio di pazienti può prendere bilaterale tutti e due gli occhi o unilaterale che può essere sia sporadico che ereditario Nutzon ha dimostrato con questo modello statistico su solo 48 casi questo è un'anomalia nel mondo di oggi dove per dimostrare qualcosa lo devi fare con almeno mille casi e vi farò vedere cosa abbiamo fatto noi ma dimostra che esiste una regione in cui c'è un gene importante retinoblastoma che ha una funzione che nel sistema ereditario esistono persone che hanno una mutazione solo su un allele questa mutazione deve ricevere un secondo colpo il secondo colpo può dire una delezione o una seconda mutazione nella stessa regione dello stesso gene per poi generare l'evento proliferante e quindi germinare e terminare in un evento devastante la situazione nel non ereditario è che il doppio colpo deve avvenire contemporaneamente nelle cellule somatiche sul lato destro di questa diapositiva l'evoluzione del concetto del doppio colpo è che effettivamente durante la progressione di un tumore al colon esistono questi eventi poi dimostrati successivamente della prima mutazione e poi della seconda mutazione che inattiva il gene nel diciamo seguendo un po' lo storico nel 1990 c'è il primo modello in cui si cominciano a inserire questi geni che subiscono questo evento qui vedete questo è proprio il lavoro estratto da SEL pubblicato da Wolkenstein dove si dimostra che durante l'evoluzione di un tumore il fenomeno doppio colpo avviene ma c'è anche qualche altra cosa che succede dall'inizio della progressione tumorale fino alla completa formazione del carcinoma e anche alle metastasi quindi questa volta non si parla di un solo doppio colpo su un singolo gene ma di un'evoluzione di mutazioni che vi racconterò nelle mie successive diapositive ma che spiegano come l'evento cancro è la sommatoria di un'evoluzione continua di selezione di queste mutazioni ad opera di geni che hanno un vantaggio verso altri geni e questo evento clonale evolutivo è descritto in questa diapositiva seguendo una serie di numerosi lavori che hanno dimostrato che il primo evento è un evento che può andare in una soluzione di terminazione o anche di eliminazione ma poi ci sono una serie di altri eventi mutazionali che avvengono che danno una selezione da un carcinoma in situ a una funzione di carcinoma diffuso questo passaggio sta generando un albero di nuove mutazioni e quindi la complessità sta nell'identificare il tempo e lo spazio di queste mutazioni nel tessuto stesso ed ancora più interessante è che questa evoluzione porterà poi a una serie di altri alberi di selezione di settori di cellule che hanno un vantaggio alla prolimazione stessa e alla generazione addirittura dell'evento metastatico o addirittura il vantaggio è nella ricorrenza del tumore stesso cioè l'asportazione di quella massa rigenera una nuova massa l'evento recurrence è anche mediato da particolari geni che hanno questa ricorrenza si ricordano di quello che è successo per rigenerare il tumore stesso quindi entriamo nell'ottica anche della staminalità il mondo adesso sta rivedendo a delle definizioni di qual è la funzione di queste mutazioni e due sono le grandi famiglie di geni la prima è chiamata con il nome di caretaker la seconda è chiamata con il nome di gatekeeper i gatekeepers sono delle geni dei regioni di DNA che manifestano in fenotipo che direttamente regolano la crescita del tumore stesso quindi sono elementi chiave che aprono la porta mentre invece i caretakers non vanno a lavorare direttamente su quella funzione ma sono dei helpers tra questi helpers possiamo distinguere le identificazioni di geni che hanno a che fare anche con il riparo di queste mutazioni e tra la maggior parte dei caretakers noi identifichiamo geni che sono in grado di recuperare quel fenomeno generando un aggiustamento del carico mutazionale in una lista fatta nel 2005 vediamo sia gatekeepers che caretakers e in questa prima diapositiva viene fuori al secondo posto il gene TP53 che ha sia funzione di gatekeepers che funzione di caretakers quindi questa è quando noi distinguiamo le famiglie un gene che può fare entrambi le cose ma il paradigma della soppressione genica del bloccaggio della soppressione genica non viene solo fuori dal concetto della perdita del secondo colpo cioè perché quando c'è la seconda mutazione noi diciamo che l'eterozigote è perso anche definito col termine loss of eterozagosity anche detto L-O-H in effetti non è solo una perdita di funzione quella ma può essere anche considerata prevalentemente legata a un difetto di una delezione genica ma nel tempo si è scoperto che non è sufficiente dimostrare una delezione genica ma sono state identificate mutazioni che in realtà inficiano sull'espressione genica stessa e quindi non è solo adesso una delezione della funzione quindi una loss totale di function ma è una loss parziale e l'evento loss parziale può generare due diverse situazioni in cui la tumorigenesis parte semplicemente perché questa tumor suppressor è lievemente abbassato nella sua quantità di espressione genica quindi oggi si parla di aproinsufficienza o anche quasi sufficienza che si utilizza poi con la definizione di obbligata aprosilfencensi questa aprosilfencensi è stata legata prevalentemente a questo altro oncosopressore con il nome di ptin il quale ha come obiettivo se espresso inferiori alle dosi del suo a un livello di 100% raggiunge un'espressione dell'80% è in grado di generare una progressione tumorale quindi non è più stavolta una quantità genica diciamo al 50% ma è una quantità di espressione genica quanto questo è vero nel mondo di oggi beh diciamo che oggi non sono pochi i gatekeepers e non sono pochi i caretakers questa picture del 2013 ne identifica circa una settantina di funzioni presenti in diversi organi e non ultimo il lavoro di pochi giorni fa presentato su science ne dimostra che ce ne sono questo è stato un'analisi fatto su mille campioni un'analisi adesso su 18.000 campioni di tumore dimostra che questo numero di geni caretakers e gatekeepers è sostanzialmente elevato a di un ordine di 10 quindi parliamo di circa mille entità che hanno questa funzione e nel caso dei gatekeepers abbiamo anche un evento che si chiama pathogen mutation cioè in alcuni geni c'è una recurrence di mutazioni in particolari loci e in particolari nucleotidi del gene stesso quindi per alcuni tumori uno può cercare per definizione questa stessa regione di la protein kinase 3A 3Ca o anche nel caso dei dh dove abbiamo delle concentrazioni mutazioni che occorrono in tutti i tumori sviluppati in diversi organi che generano appunto l'uomo come si identificano questi caretakers e gatekeepers bene il lavoro principale è stato fatto su un organismo modello Pierpaolo Pandoffi ce l'ha raccontato generando molte linee nel topo dove il modello è chiaro si genera una attivazione o inattivazione di un oncogene attraverso inserzioni nel genoma di locus lox che possono essere quindi riconosciute dalla crericombinasi tessuto specifico e con questo modello sono stati identificati per la maggior parte ad oggi i più importanti caretakers e i più importanti gatekeepers dalla notizia che sono stati chiudi questi modelli animali e questi stabulari adesso immaginiamo come lavoreremo per identificare queste funzioni perché il topo purtroppo a noi è il modello più adatto per dimostrare eventi tumorigenesi e seguire la linea tumorale durante i vari passaggi fino alla generazione dell'evento metastatico ci sono altri fattori importanti a tenere in considerazione nell'evoluzione del cancro e sicuramente è un punto chiave legato a quello che è il microambiente cioè dove la cellula sta crescendo qual è l'influenza genomica presente delle cellule accanto che in qualche modo coordinano l'azione della scelta del network che poi porterà alla produzione di una cellula che darà metastasi o una cellula che morirà il secondo punto che è pure importante è l'aspetto epigenetico e trascrizionale come capite la presenza di così tanti caretakers e gatekeepers porterà a uno studio di regolazione di questi elementi perché come vi ho spiegato prima non è tanto la mutazione sola ma è l'espressione di questi elementi ovviamente ne faranno da padrone anche tutte le azioni sulla azione della riparazione del danno e ancora più importante è che in questi network di gatekeepers è stato dimostrato anche una regolazione ad opera di proteine cioè i fattori trascritti e tradotti hanno poi da interagire con altre proteine e l'interazione può essere favorevole positiva o negativa nella selezione e nella decisione se diventerà metastatico o meno quel tumore stesso due punti mi preme sottolineare sono gli ultimi quanto è importante discutere di eterogenicità nei tumori durante l'evoluzione clonale questo è un esempio di un tumore pancreatico molto semplificato dove in colore vedrete già tre tipologie diverse di cloni derivati da alberi di mutazioni effettuate da gatekeepers che genereranno nel pancreas stesso un'opzione per andare a generare la prima metastasi nel fegato ora questo primo meccanismo da una selezione di una tipologia di cellula ma successivamente può anche capitare che non è la stessa cellula che fa la seconda tipologia di metastasi e qui è l'evento che è legato a eterogenicità all'interno di cellule del tumore primario eterogenicità tra le diverse tipologie di metastasi quindi quando io dico c'ho una metastasi al polmone non tutte le metastasi al polmone sono uguali e eterogenicità tra le cellule di ciascune cellule all'interno della stessa metastasi e eterogenicità tra i tumori nei diversi pazienti perché questa evoluzione clonale non è uguale tranne che in quelle regioni dove puntualmente ci sono hotspot mutation l'ultimo punto è diciamo la frontiera dove oggi si sta praticamente lavorando è quello che si chiama immunoediting di cellule tumorigenice che vanno a regolare quello che è self e non self in questo c'è anche un'azione di immunoscape tra quello che è il controllo sia di risposta innata e adattativa cioè vi faccio tre esempi in questo caso p53 ptnrb1 insieme hanno capacità di regolare questi eventi e che quindi la loro regolazione trascrizionale con la mutazione di funzione interviene nel rilascio di citochine nella regolazione di quelli che sono i fattori di regolazione della interazione col sistema immunitario e questa funzione è data dall'interazione di tre famosi oncosoppressori i quali generano ovviamente un'evoluzione clonale quindi all'interno del sistema immunitario dobbiamo andare anche a vedere che sta succedendo sull'aspetto dell'evoluzione di oncosoppressori e loro regolazione mutazionale questo è un esempio del lavoro del nostro laboratorio dove abbiamo identificato in questo caso 23 varianti geniche di azioni di mutazioni all'interno di un tumore molto raro del cervelletto dove poi abbiamo aiutato il team internazionale nel distinguere quali sono i quattro gruppi prevalenti di cloni da cui deriva il medulloblastoma e questo studio poi ha generato un meccanismo in un particolare sensore in un particolare pathway che però ha guardato tutti quegli aspetti che vi ho raccontato prima cioè guardando nel mondo del tumore medulloblastoma cosa accadeva all'inizio della tumore di genesi e cosa accadeva invece nella parte finale che sono le metastasi prodotte appunto nel tubo neurale possiamo pensare a distanza dal sito primario il lavoro oggi sta evolvendo e stiamo caratterizzando adesso un gruppo specifico e siamo insieme in un consorzio internazionale definendo in questo gruppo specifico il gruppo 4 di medulloblastoma che cosa avverrà dal punto di vista di modificazioni mutazionali legate a gatekeepers e caretakers con questo ho concluso voglio solo fare una battuta questa foto è una foto ricombinata probabilmente del 1862 dove si evidenziava un fiore Mendel il team e come vedete questo per loro era il messaggio della loro ricerca da allora ad oggi il messaggio di marketing delle nostre ricerche deve migliorare tantissimo è migliorato però probabilmente anche con cose molto semplici si ottiene grosso successo questo è il mio gruppo di ricerca e vi ringrazio per avermi ascoltato io direi di fare qualche commento io vorrei fare un commento di diciamo di continuità e discontinuità partendo dal Mendel fino a quello che abbiamo visto nella post genomica e vedo alcuni elementi di continuità che secondo me sono oggetto di riflessione primo commento di continuità il metodo di Mendel Mendel era laureato in biologia e matematica lui analizzò quantitativamente i dati e l'analisi statistica da allora in poi credo che dia un contributo sempre alla genetica e ancora di più alla post genomica laddove abbiamo una mole di dati da esaminare senza l'aiuto dell'informatica e della bioinformatica non ci raccapezziamo quindi questo contributo è importante Mendel aveva due lauree adesso il nostro sistema si sta evolvendo verso fare due lauree contemporaneamente è una buona cosa perché per fare analisi adesso sono analisi interdisciplinari in cui alcune competenze vanno rafforzate un altro punto di continuità che io vedo è quello dei sistemi diciamo modello Mendel c'è un sistema ideale veramente ideale per le sue analisi e da l'ora in poi noi abbiamo visto che i sistemi modello funzionano funzionano bene ognuno ha i suoi vantaggi e ognuno ha esportato qualcosa nei campi dell'altro perché dal pisello diciamo siamo arrivati alla drosofila alla drosofila sia elegans ma qualunque sistema si mette a punto in uno di questi organismi modello poi alla fine se è successo viene esportato in un altro io ho sentito il professore di Schiavia che diceva GFP per la prima volta è stata utilizzata come marcatore in sia elegans un anno dopo è stata utilizzata in drosofila da dove viene la green fluorescent protein dalla medusa ecco come diciamo le cose si tengono una conquista in un campo viene immediatamente utilizzata negli altri campi e costituisce un vantaggio quindi non c'è niente da fare diciamo l'uso dei sistemi in modello e la loro trasversalità è qualcosa che è un punto di forza enorme e voglio semplicemente sottolineare qualcosa che riguarda una continuità tra la prima diciamo la prima presentazione che era su drosofila e l'ultima che ha fatto Massimo cioè qual è stato secondo me un contributo fondamentale dell'adrosofila quella di aver fatto e posto diciamo l'attenzione sui cloni gemelli cioè su quello che avveniva in mitosi che cosa avveniva in mitosi sono state evidenziate il crossing over mitodico ma non solo le mutazioni somatiche le mutazioni somatiche che determinano lo sviluppo clonale lo sviluppo clonale è adesso una delle basi di accesso per lo studio dei tumori e per lo studio delle genealogie cellulari e pongono l'attenzione su che cosa che quello avviene in mitosi a livello di mutazione somatica è in realtà credo una delle cause prevalenti che accorci la vita media e che quindi quello che avviene in mitosi va studiato come quello che avviene ereditariamente in meiosi questo è stato secondo me un contributo che viene sottovalutato ma che secondo me è molto potente mi fermo qui per non rubare spazio io penso che Marilena ha posto l'attenzione sui punti fondamentali che oggi sono stati trattati quindi l'utilizzo dei sistemi modelli è il loro scorrere paralleli insomma da un punto all'altro ora credo che invece di continuare forse a meno che qualcuno di noi non ci abbia qualche annotazione ma Marilena ha sintetizzato un po' lo scopo di questa giornata insomma sarebbe bene se nascessero invece delle domande su cui possiamo poi aprire un dibattito da parte dei più giovani di quelli che ci stanno a sentire allora però prima di ah eccolo la tecnologia ogni tanto fallisce prima di partire con delle domande se volete innanzitutto mi faceva piacere portare i saluti di Lino Polito che non è potuto intervenire sta seguendo da lontano e credo che Lino farebbe un particolare ringraziamento a Patrizio per aver citato diciamo la drosofila napoletana in qualche modo Marilena come dire mi ha fregato tre dei quattro temi dei quali io volevo dire ma ovviamente come dire abbiamo abbiamo un'unità di pensiero io volevo scherzare un poco in attesa diciamo delle vostre domande scherzando un po' dal punto di vista storico sapete che gli storici che gli storici a secondo dei degli episodi che accadono diciamo nei secoli definiscono secoli lunghi e secoli brevi in qualche modo io lo applico alla mia vita dico che io da un punto di vista ho avuto una vita lunga nel senso che io sono nato sul bordo della dimostrazione che il DNA era il materiale ereditario ho attraversato tutta la storia della doppia elica del DNA ho attraversato la storia tutte le storie che avete sentito oggi in qualche modo ok tutta questa grande evoluzione diciamo della genetica verso la genetica molecolare per approdare diciamo oggi verso la genomica questo è tanto mi sento fortunato insomma ok e spero che altri come me si sentano fortunati per aver potuto vivere un tale progresso scientifico in una vita lunga diciamo io spero che diventi ancora più lunga dal punto di vista anagrafico ok e un altro punto che mi piaceva e poi dopo mi taccio lasciando a voi tu hai detto l'elogio della mosca io penso che Mendel e Darwin siano l'elogio della lentezza e mi piace sottolineare questo allora Mendel delle caratteristiche dello scienziato ok le caratteristiche dello scienziato sono curiosità tenacia e pazienza ok e secondo me Mendel dieci anni i pisello conto i pisellini falli in croce ok verifica la tua ipotesi pubblica ci ha messo dieci anni ed è un esempio unico di curiosità tenacia e pazienza ma non ci ricordiamo di Darwin insomma ok che ci ha messo 30 anni raccolta di dati classificazione ok pensamento ma lo pubblico non lo pubblico poi qua ci sta pure l'elemento umano della scienza guarda che ci sta quello che sta per pubblicarlo facciamo veloce facciamo veloce 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 e non lo so forse perché ormai tengo una certa età che questa iper velocità che oggi abbiamo certe volte diciamo mi fa venire il giramento di testa in qualche modo però mi rendo conto che diciamo che l'iper velocità che dobbiamo avere dipende da tanti altri fattori esterni che cosa mi aspetto nel futuro spero di poterlo vedere non ne sono sicuro quando noi riusciremo a mettere genoma epigenoma metabucloma e tutte le omiche che volete diciamo sovrapposte l'una sull'altra per incominciare a divanare tutti quelli che sono i vari misteri della vita e della biologia che voi ci avete illustrato in questi efficaci mini seminari di tutte le qualità che hai detto bastava avere un campo e zappare cioè adesso non è più così la scienza è meno democratica adesso non basta avere la pazienza non basta bisogna avere i fondi perché purtroppo diciamo il tempo del fai da te è finito e questo è un aspetto molto fondamentale è una differenza di discontinuità enorme è parlato di persone che seguivano la loro idea e che non avevano bisogno di estremo sostegno per poterla dimostrare e bastava l'idea e bastava la pazienza e adesso purtroppo non è più così se posso soltanto aggiungere pochissime parole nel 2004 Bruce Alberts nel presentare il suo ennesimo mattone che su tutti hanno studiato disse che bisognava ripensare il modo con cui insegnare la biologia perché era evidente come ci insegnava a monte come l'aveva sottolineato dalla stessa la interdisciplinarità era richiesta sempre di più il motivo era semplice le scoperte semplici sono state fatte adesso sono rimaste ovviamente rimarranno quelle complesse vi è sempre quella battuta storica in cui si dice che ogni problema complesso ha sempre una soluzione semplice purtroppo è quella sbagliata la verità che abbiamo capito e soprattutto la forza della mia generazione che ha iniziato con le domande semplici fino a trovarsi a quelle complesse che ogni problema complesso va affrontato a livelli diversi usando linguaggi diversi come Mendel aveva affrontato quel problema utilizzando in quel suo caso due linguaggi un linguaggio scientifico biologico e un linguaggio scientifico matematico oggi il numero dei linguaggi diventa sempre più alto capire adesso la biofisica del nucleo o delle cellule e di perché il nucleo sta lì e non sta in un altro posto pur non avendo una membrana questa è fisica è pura fisica ovviamente quello che è successo per tanti anni tra i di cui io sono stato testimone è che il giovane che si avvicinava alla scienza e che voleva diventare uno scienziato ma che non voleva studiare la matematica faceva biologia o biomedicina sempre io sono un esempio oggi non è più così oggi non è assolutamente così tanto è vero che se io prendo qualsiasi studente di biologia o di medicina e gli do il paper di Cudson del 1973 il famoso tweet è stato presentato dal professor Zollo sono convinto che quasi nessuno riesce a capire cosa c'è scritto dentro il risultato è ovvio ma perché qualcun altro l'ha fatto ma la metodologia non è una metodologia biologica è una metodologia statistica molto complessa quindi ci sono due problemi fondamentali da un lato un problema didattico la cui responsabilità è della docenza e delle strutture della docenza cioè trasversalità la doppia laurea altre possibilità qualsiasi essi siano ma certamente tenere presente che le problematiche sono complesse e che hanno bisogno di essere affrontate utilizzando linguaggi diversi con metodi diversi questo in primis ce l'ha detto 150 anni fa Mendel e oggi la post genomica ce lo sta proprio spiattellandola in tutti i modi quindi il suggerimento che io darei attualmente a livello di giovanile e didattico è da un lato che lo studente non abbia più come ce l'avevo io l'impressione di poter diventare un premio Nobel senza studiare la matematica ma dall'altro lato invitare tutte le nuove generazioni i nuovi docenti ad avere un atteggiamento trasversale che vada al di là della struttura parrocchiale purtroppo classica della nostra università yes condivido aggiungere soltanto che ci vuole sempre l'idea dietro non è la tecnica fine a se stessa io so anche su questo ci terrei diciamo a sottolinearlo perché l'aumentare delle tecniche l'aumentare dell'interdisciplinarità creano anche il fatto che ci si può buttare in un argomento di ricerca senza avere un'idea chiara cercando qualcosa che probabilmente non c'è questo è un insegnamento che ho avuto direttamente da Dato Boncinelli che diceva sempre qualche volta ai laboratori quando eravamo insieme chi il nulla cerca il nulla trova e quindi credo che sia comunque un insegnamento insomma da tenere presente e da applicare con razionalità e con discernimento diciamo quando uno si tuffa nella interdisciplinarietà e nelle nuove tecnologie volevo fare una domanda legata un po' con quello che ha detto Luigi voi che ne pensate come li vedete gli studenti oggi? non li vediamo più perché siamo in pensione con grande gioia gli studenti ma neanche peggiori mai contenti ci mancano vai il mondo il mondo dell'insegnamento è un mondo particolare ok ogni anno tu hai davanti a te un qualche cosa di nuovo che ti stimola qualcosa di nuovo che evolve perché evolve secondo i costumi della società quindi in termini di apprendimento in termini di modalità di trasmissione della cultura vari tipi di capacità e quello era un modo per noi diversamente giovani insomma diciamo in questo momento per rinnovarci e sentirci giovani ogni anno e e quindi forse diciamo quel mondo quel rapporto annuale quel guardare negli occhi la nuova classe cercare di scoprire l'occhietto lucido pieno di interesse e cercare di avere mentre ti spiegavi quel lampo di luce che ti diceva e ti dimostrava ho capito secondo me è una sensazione impagabile devo anche dire però che per gli studenti è molto aumentato la difficoltà quindi quando negli ultimi anni dell'insegnamento abbiamo in un certo senso visto un piccolo deterioramento nel grado diciamo di preparazione o di assorbimento di elaborazione della materia da parte degli studenti bisogna anche rendersi conto quando quello che diceva Gigi quando noi studiavamo il libro di genetica era un tomo di queste dimensioni per quanto potevamo essere bravi o meno bravi insomma ci siamo applicati ma insomma voglio dire ce l'abbiamo fatta perché non era neanche tanta roba ora noi pretendiamo di insegnare agli studenti una quantità di cose incommensurabili e questo diventerà un compito estremamente difficile per i docenti perché se da una parte bisogna salvaguardare l'interdisciplinarità quindi dare anche dei concetti complementari l'uno all'altro e che possano dare una visione più esaustiva dell'argomento dall'altra parte secondo me è un problema degli insegnanti scusate io sono stata da un certo punto di vista felice di andare in pensione perché mi è sembrato a un certo punto che i nostri metodi non fossero più adatti e quindi che il nostro modo di insegnare fosse un poco passato però vorrei diciamo visto che Massimo ha fatto questa domanda vorrei precisare io credo che raccontare dei concetti i ragionamenti per un insegnante di genetica è una cosa che viene spontanea perché non è possibile insegnare genetica a memoria oppure con degli schemi bisogna fare elaborare ragazzi a se stessi un ragionamento che come diceva Luciano va modificato leggermente a ogni classe di insegnamento che uno si trova davanti certe volte va bene certe volte va meno bene nel mio ricordo dei numerosissimi anni di didattica mi ricordo degli anni particolari in cui c'erano diciamo c'erano vari studenti bravissimi tutti insieme poi per due anni magari non veniva fuori ma può darsi che era un mio problema che io non avevo potuto non avevo saputo tirar fuori dai ragazzi le cose giuste ma attualmente ci sono due problemi grandissimi nell'insegnamento la quantità di cose da raccontare che è veramente pazzesca secondo me la genetica se uno volesse insomma è diventata così e non farsi prendere troppo diciamo dalle nozioni appunto insomma cioè delle cose bisogna avere il coraggio probabilmente anche di tagliare degli argomenti storici no chi dei relatori Elia mi pare ha parlato di Brenner per conto mio non parlare degli esperimenti di Benze scusate sul fago eccetera era un diminuzio capitis ma mi mancava l'argomento uno degli argomenti chiave della genetica però mi rendo conto che forse al giorno d'oggi bisogna trovare la maniera di affrontare gli stessi problemi forse con qualche modalità un poco diversa insomma e non è facile non vi invidio insomma a quelli di voi che si applicano a questa cosa no io penso che insegnare non è mai facile però con l'accelerazione che c'è stata dall'ingegneria genetica 40 più o meno anni fa la trasgenesi e tutto la mole di nozioni che si è accumulata enorme arriva sui giornali dal parrucchiere prima che sulle riviste perché fanno le dichiarazioni in rete e non si può non partire da quello perché te lo leggono prima ancora che arriva pubblicato e quindi tu devi per forza di cose coprire un qualcosa che è in evoluzione rapida ed è una mole di dati enorme ma contemporaneamente non dovresti scoprire la parte storica perché la parte storica è quella che abbiamo detto c'è dietro ancora di più ragionamento fatica logica e quindi è qualcosa da tenere insieme molto difficile e devo dire che io quando ho detto trovo gli studenti peggiorati non tutti ovviamente però la mia impressione è che lo sviluppo dei media sia stato diciamo uno stimolo enorme a cogliere solamente quello che è il tech home message dimmi quello che devo sapere e questo devo sapere tutto quello che c'è dietro diciamo non mi interessa come ci sia arrivato è una tendenza sociale che Baricco chiama il surfing bisogna sapere un po' di tutto ma niente in profondità e questo è un fenomeno sociale che noi dobbiamo affrontare perché i ragazzi adesso sono così e ovviamente bisogna cambiare il nostro metodo perché noi non siamo cresciuti con questo tipo di conoscenza e probabilmente non la condividiamo quindi ci vogliono nuove generazioni e nuovi diciamo approcci per poter dialogare con questo tipo di tendenza che è evidente che c'è e tendono alla semplificazione in tutto e quindi insomma dargli la complessità è difficile e poi ci sta questa mole enorme di dati che diceva la presidenza Lamentia che è in espansione inarrestabile quindi non c'è niente da fare allora io partirei dalla domanda di Massimo ai nostri alla tavola rotonda che ci ha chiesto come vi ha chiesto come vedete gli studenti oggi e io ribalterei come gli studenti ci vedono oggi e diciamo non siamo ancora in conclusione di queste 4-5 giornate di Mendele riprendendo quello che ha puntualizzato anche il direttore del dipartimento queste 4 giornate ci hanno visto con studenti di ogni ordine e grado e credo che sia stato dato un panorama molto ampio di come raccontare la diciamo le scienze oggi e quindi da questo credo che saremo arricchiti tutti noi e ovviamente ci potremo lavorare solo insieme e in maniera interdisciplinare io volevo intervenire un momento su questo perché è qualcosa a cui tengo ovviamente per quanto riguarda la didattica ma io credo che un po' un disastro sia combinato nelle scuole quello che viene prima io ho visto dei testi scolastici come presentano la storia la geografia c'è come dire una mancanza di progressione c'è un'astrazione sono i concetti astratti a me sembra che non voglio adesso accusare la scuola in generale però insomma saranno ovviamente insegnanti bravi anche lì però i programmi scolastici sono nel maggior parte dei casi veramente non proprio il massimo e temo che quindi questi ragazzi arrivino un po' con una preparazione con un'impostazione che non coincide poi nella genetica ha bisogno di capacità di astrazione di ragionamento come far a insegnare c'è allora che devi raccontare una barzelletta una storiella c'era una volta Mende stava in un orticello prendeva le piante cioè non puoi banalizzare i concetti a sto livello non puoi obbedire al messaggio abbassiamo il livello perché così promuoviamo tutti l'università ha i suoi punti in più perché c'è un sacco di laureati io credo che da questo punto di vista bisognerebbe stare molto attenti perché altrimenti si fa un disastro posso aggiungere una cosa secondo me basterebbe che la scuola insegnasse a leggere ed elaborare un testo ed è una cosa che manca e negli ultimi anni a me è capitato qualche volta che venivano degli studenti nel mio studio non mi chiedevano una spiegazione mi dicevano non riesco a trovare sul libro l'argomento che lei ha spiegato perché io chiaramente non spiegavo primo capitolo secondo capitolo terzo capitolo dove lo trovo questo argomento allora c'è qualcosa che non funziona evidentemente è triste in questo ma non nel tipo di nozioni ma nella quando noi eravamo a scuola ci leggevano i classici in classe e li spiegavamo e li apprendevamo insieme secondo me è una cosa che manca scusate ma questo non è l'argomento no infatti diciamo come dire sono delle nostre sono delle nostre sofferenze che ci portiamo la capacità di orientamento in generale a volte è scarsa non solo sui libri ma anche nello spazio la capacità di sapersi muovere nei luoghi di sapere dove si sta con quelle relazioni bisogna tornare in presenza sì speriamo comunque questo è importante invece voglio fare una domanda voi che ne pensate ma nella post genomica quindi gli organismi modello hanno ancora un senso o no perché oggi con 10.000 20.000 30.000 genomi animali sequenziati ci sono molti organismi in un modello che vengono studiati secondo quelle approcci di genetica inversa che a quel punto ti possono dare comunque un sacco di risposte a tutti i livelli e quindi mi chiedevo voi di questo no io penso a me rispondo faccio una battuta prima io penso che gli organismi modello esisteranno e continueranno a resistere certamente penso che saranno accompagnati quando si svilupperanno bene dagli organoidi in qualche modo che saranno un sistema sui quali si potranno assaggiare in modo più specifico alcune cose io penso che gli animali modello continueranno a esistere per il semplice motivo che bisogna trovare delle dimostrazioni funzionali alle cose non basta avere i genomi di 100.000 organismi sequenziati bisogna poi trovare diciamo delle proprie funzionalità soprattutto perché anche quando sono modelli di malattia le malattie sono multisistemiche e quindi non si possono diciamo ricapitolare in una cultura cellulare o in assenza di mutazioni andarle in qualche maniera a studiare quindi io credo che gli organismi modello hanno un futuro non so se hanno un futuro dal punto di vista del finanziamento ma questo è un problema tutto italiano secondo me se posso dire una cosa assolutamente sì invece gli organismi modello continueranno a resistere la professoressa la mantia indossa un organismo modello le sue orecchie che le abbiamo regalato al momento in cui è andata in pensione non ha detti questa è una analisi delle tetra di analisi delle tetra di l'ospora crassa regalata da ragazzina quando sono andata in pensione insomma che io porto con molto orgoglio in questa giornata io quello che dico è che tutto sommato la mia impressione è che le scienze omiche che sono venute fuori sono un po' una risposta a una come dire a un eccesso di riduzionismo che è stato essenziale nello sviluppo della scienza e che ancora lo è e gli organismi modello ce lo permettono ma poi le scienze omiche sono un tentativo secondo me ancora abbastanza embrionale forse perché non sono abbastanza addentro ma ancora abbastanza embrionale di ricerca dell'olismo ma io credo che la chiave è proprio questo saltellare tra il riduzionismo e l'olismo che ci può portare alla conoscenza nel senso più completo del termine altrimenti ci perdiamo ma la scienza ha sempre fatto questo salterello ed è il discorso poi di chiudersi che un pochino diceva Gigi Lania prima anche non possiamo restare nella nostra parrocchia e benvengano tutte le lauree doppie eccetera però nemmeno possiamo essere tuttologi quindi io dico ancora di più che invece è molto probabilmente più fruttuoso cosa che già esiste e secondo me è sempre più chiaro anche dove stanno rivolgendo le risorse nell'interdisciplinarità che non è una parola vuota è una parola sempre più vera secondo me perché come vede le cose un fisico e ce l'hanno dimostrato diciamo anche esimi amici è diverso da come lo possiamo vedere noi o anche un medico cioè ha proprio la forma mentale completamente diversa anche come è stato educato oggi diciamo i medici non sono formati alla importanza dell'alimentazione che voglio dire tra i fattori invece per i risponenti importantissimi allora l'interazione col biologo l'interazione con il chimico ha un ruolo per me fondamentale cioè non bisogna dividere ma unire questa è la mia sensazione mi sembra a un certo punto che il problema sia adeguare la didattica quindi che non siamo abbastanza diciamo adeguati a questo mondo che è andato molto veloce e ci ha dato una serie di strumenti ai quali dobbiamo un po' adeguarci come didattica per esempio pensavo a quello che diceva Massimo relativamente alla diciamo alla variazione dei livelli dei geni nel cancro noi parliamo agli studenti di microRNA di RNA non coding e queste cose però certe volte i ragazzi ci guardano e sembra che ci vogliano dire ma che importanza dobbiamo dare a questi elementi questa epigenetica ok quanto importanti sono questi elementi rispetto a quelli che noi abbiamo sempre insegnato come dei paradigmi della genetica ecco quindi che importanza dare a questi argomenti come farglielo comprendere o se non dobbiamo cambiare proprio il sistema di insegnare facendo capire loro come cioè utilizzando delle differenti metodologie e quindi cercando di sviscerare questi argomenti in maniera più approfondita che loro possano toccare con mano che cosa vuol dire avere per esempio una regolazione a livello epigenetico su un gene una regolazione a livello di un promotore ecco questo mi sembra carente loro è un mordi e fuggi sugli argomenti questo mi sembra però la bu posso dire una cosa io io penso che noi voi diciamo abbiamo abbiamo sempre ricercato nel nostro insegnamento nel nostro trasmettere qualche cosa abbiamo sempre cercato questo dobbiamo trasmettere quello che è la chiave per riuscire ad entrare in una disciplina e a leggerla e a capirla quindi questa necessità di trasmettere tutto è ridondante noi dobbiamo trasmettere quelli che sono gli elementi fondanti all'interno di una disciplina evoluta nel tempo fino ad arrivare a quello che diceva Gigi una sola mente non la può contenere ok probabilmente però dobbiamo sforzarci eventualmente di rinnovare quelli che sono gli elementi chiave quelli che sono gli elementi che noi dobbiamo trasmettere e attraverso i quali i ragazzi apprendono e maturano in modo cosciente e non diciamo di definizioni quello che è il modo di ragionare di un certo tipo di scienza e di disciplina sono d'accordissimo ad esempio l'operone la genetica dell'operone e la biologia molecolare sono due cose diverse ma vengono confuse da molti ragazzi anche perché secondo me pure qualche docente fa un po' di confusione e allora la genetica dell'operone deve considerare l'analisi mutazionale la differenza delle mutazioni costitutive cioè lì la genetica secondo me si deve insegnare in questo modo cioè facendo capire ai ragazzi le differenze degli approcci poi dopo la biologia molecolare il sequenziamento di quanto è grosso quanto è lungo il gene che codifica il pincopallino quanto è il tratto che lega la polimerasi quello va benissimo ma sono due cose diverse ecco io trovo difficoltà quando poi vengono all'esame glielo dico cento volte mi presentano il modello ma poi come hanno fatto questi signori perché si sono interessati a questo sistema perché era interessante perché valeva la pena che differenza cioè i mutanti regolativi spesso qualcuno non sa perché magari ha fatto il corso di biologia molecolare successivo a genetica e gli è rimasto quel concetto là posso riportare e questo scusa che ti interrompo secondo me è fondamentale anche quando si parla di cattedre alla fine scusate mi metto in mezzo su questo perché poi perché poi dipende la genetica deve essere insegnata in un certo modo certo scusate posso tornare a una domanda tecnica ci trovi d'accordo mentre tu parlavi mi sono ricordato una curiosità quando hai parlato tu Dimitri quando hai fatto la tua presentazione è dovuta probabilmente alla mia ignoranza eccetera tu studi prevalentemente i geni dell'etero cromatina di idrosofila e alla fine hai fatto vedere che attraverso la genomica avete fatto questa raccolta questa picture di questi geni e hai detto una cosa alla fine sono prevalentemente molto lunghi questa è una logica che esiste le funzioni genomiche sono più grandi mediamente di quelli cromatici c'è una logica in questo una supposizione che tu ci puoi fare c'è un'ipotesi che diciamo la lunghezza del tratto genomico la lunghezza del tratto genomico potrebbe essere correlata alla velocità di trascrizione ma oppure al tempo evolutivo in cui quel gene si trova nell'etero cromatina perché sono più grandi le porzioni genomiche perché sono piene di introni fatti da trasposoni da relitti trasposonici che si sono integrati nel tempo evolutivo quindi un gene magari più piccolo sta nell'etero cromatina da meno tempo rispetto a una più lunga perché l'etero cromatina è bersagliata dalle inserzioni di questi elementi quindi c'è anche un fatto di un motivo probabilmente anche correlato a questo io c'avevo anche una domanda su questo nel senso che l'etero cromatina è sempre stata come diceva Luciano ai nostri tempi considerata vuota ma soprattutto perché non si mappava niente lì dentro quindi il problema è pur essendo questi geni molto lunghi come mai questa frequenza di mutazione è così bassa c'è un fenomeno di ridondanza genetica c'è un fenomeno di bassa espressione perché il problema nasceva tutto da lì che praticamente delle zone erano mute e lì dentro non si mappava nulla e quindi qual è la spiegazione che diamo adesso a questo e poi c'è un'altra piccola domanda sempre nei tempi del DNA selfish e per cui l'etero cromatina non serviva a nulla una delle ipotesi era invece che i blocchi etero cromatici servivano a riassociare a velocità a velocizzare il fenomeno di appaiamento in meiosi e quindi a favorire i crossing over l'appaiamento e la disgiunzione su questa diciamo teoria non ho letto più granché quindi vuoi sapere quale è la situazione ci sono siti di appaiamento ad esempio nell'etero cromatina tra l'Y e l'X i collocori cioè il DNA ribosomale che serve anche a questo per quanto riguarda l'aspetto quindi poi il centromero il DNA centromerico che viene trascritto che ha una funzione anche dal punto di vista strutturale per quanto riguarda il fatto che non si siano trovate particolari mutazioni beh dipende certo i geni eocromatici sono di più il territorio è maggiore comunque io volevo dire solo prima che malgrado sono dieci volte più lunghe mediamente del genio eocariotico quindi praticamente aumenta il target aumenta il bersaglio aumenta le mutazioni sono di meno in termini numerici 250 contro 14.000 quindi alla fine e poi dipende dal tipo di approccio dal tipo di mutagenese ad esempio in un certo contesto di mobilizzazione di elementi trasponibili noi abbiamo trovato invece un ordine di grandezza maggiore di mutabilità dell'eterocromatina quindi dipende anche da una preferenzialità di accesso ad esempio a certi elementi trasponibili ma mutazioni di questi geni ci sono? scusa? mutazioni di questi geni? come no? sì sì mutazioni indotte da indotte da MMS no dico con fenotipo visibile diciamo come mai sono sfuggite? perché probabilmente non c'è stata una grande attenzione secondo me tu dici che random dovevano data la dimensione così grande diciamo mi aspetto numericamente molto di meno numericamente molto di meno e poi diciamo dal punto di vista della ricombinazione ad esempio nelle regioni etromanie non ricombinano quindi non c'è la possibilità nemmeno di studiare eventualmente fenomeni diciamo di ricombinazionare di mapparli in questo senso magari venivano mappate associati a regioni i centromeriti inizialmente senza poterli differenziare particolarmente noi li abbiamo mappati non con la ricombinazione ma con l'ubilazione e poi dopo dove è che la genetica poi di approccio ha fallito? no l'approccio iniziale era che probabilmente non c'era un'analisi genetica abbastanza esaustiva tale da poter evidenziare gli unici mutanti antichi vecchiotti erano due geni light nei primi due geni eterochromatici mappati grazie a degli alleli recuperati per caso ma ovviamente essendo comunque pochi e poi non tutti sono come dire mutano danno un fenotipo alcuni possono non dare un fenotipo visibile duplicazione no? duplicazione? mancanza di espressione? oppure magari non hanno una funzione diciamo definita o possono collaborare tra di loro magari devi toglierne più di uno per vedere l'effetto però diciamo che ci sono dei gruppi di complementazione definendo solo dal punto di vista genetico nell'eterochromatina e che corrispondono ad alcuni di questi altri geni non è detto che siano tutti per quanto riguarda la vitalità del fenotipo necessario ecco su questo non sia un'idea completa allora Massimo ci dice che le altre discussioni si faranno nel foyer esatto va bene voglio ringraziarvi tutti per essere presenti qui per questo evento che abbiamo fatto al Change ringrazio anche a nome del presidente che ci ha messo a disposizione questa stupenda realtà grazie